Vi do qualche informazione di servizio. Il buffet l'avete già praticato e sarà lì tutta mattina per cui chi vuole può alzarsi e andare tranquillamente al buffet. Ci sarà la registrazione di questo intervento, cioè di questo convegno e dei vari interventi. Potranno essere poste al termine degli interventi dei relatori anche delle domande sia per chi è in presenza e che inviteremo poi al podio per poter essere più chiari anche nell'esposizione, sia a distanza. Per le persone che sono a distanza non sarà possibile intervenire direttamente perché chiediamo cortesemente di scrivere nelle chat le loro perplessità, le loro domande, i chiarimenti che hanno necessità di avere. Noi saremo a disposizione sia durante questo convegno per dare delle risposte e qualora non riuscissimo ad esplicitare tutte le nostre informazioni avremo poi sulla pagina dedicata anche delle fac che raccoglieranno appunto quelle che sono le vostre sollecitazioni. Tutti i materiali del convegno saranno poi collocati sul sito. Chi è in presenza riceverà con mail il link, mentre chi è a distanza probabilmente l'ha già ricevuto dalla nostra collega che si dedica per tutta la mattinata a raccogliere e a seguire le persone che sono a distanza. Quindi a questo punto io direi che possiamo proprio dare inizio al convegno e chiamerei il direttore, il dottor Arturo Fraggio, che è direttore della direzione istruzione, formazione e lavoro, che presenta un suo saluto all'Assemblea. Bene, grazie a tutti per la partecipazione e devo dire che c'è anche l'interesse per il contenuto e la giornata di oggi. Questo mi consente anche di ripensare un po' alla storia. Beh, anzitutto grazie per la partecipazione alla giornata di oggi, anche perché il tema che discutiamo e la partecipazione ci dicono proprio che è un tema molto delicato, un punto essenziale per la comunicazione tra i sistemi. Oggi abbiamo agenzie per il lavoro, abbiamo agenzie formative, centri per l'impiego, agenzia Piemonte Lavoro. Ringraziamo anche la partecipazione di altre regioni che sono collegate, con cui lavoriamo frequentemente e continuamente nei gruppi di lavoro della Conferenza delle Regioni. Camere di commercio, fondi interprofessionali, parti sociali, USR, scuole, fondazione di origine bancaria. Ecco, penso che questo sia davvero un tema, un punto di raccordo, un punto di incontro e quindi grazie per la partecipazione ad oggi, ma anche grazie per il contributo, perché questo repertorio non è frutto del lavoro degli uffici, ma è frutto di un lavoro continuo di scambio, di confronto. Dicevo che c'è anche in parte una passione per il tema, anche perché pensando a questa scadenza e quindi al rilascio del nuovo repertorio, non ho potuto evitare di andare a recuperare un prodotto molto datato, vecchio possiamo dire, che però era stato uno dei primi prodotti che avevo fatto quando ero entrato in regione, quindi in sostanza naturalmente non da solo come in questo caso. Ecco, però tra i funzionari in questo libro avevamo seguito la composizione degli standard formativi, riferimenti normativi, schede descrittive, iter formativi standard. Cioè era stata proprio l'origine, erano stati gli albori della partita, ecco, anche perché in effetti la legge 63 del 95 aveva impresso un nuovo corso alla formazione professionale, quindi poi col tempo noi l'abbiamo vista datata, però allora era stato un elemento di forte cambiamento, con due parole chiave forte, innovazione e qualità. Entrambe queste parole erano state in qualche modo accompagnate dall'attuazione di questo strumento. E poi legge del 95, dell'aprile, i primi standard formativi, la delibera del ottobre 95, ed è stata anche la prima delibera che ho firmato quella, quindi, e la conservo perché era stata una tappa davvero molto impegnativa, ma molto interessante. Molti di voi avranno visto anche gli allegati, dieci allegati, sui quali abbiamo lavorato, modificato nel tempo. Ecco, però a parte questo non è tanto un ricordare, però come gli standard formativi sono stati, sono e saranno un punto di riferimento dinamico nei nostri percorsi di servizio alle persone di diverso tipo. Naturalmente questo percorso fatto da Regione fin da allora era stato seguito con Insfol e quindi questa elaborazione era avvenuta all'interno del progetto Unità Capitalizzabili e Crediti Formativi, che aveva poi portato anche a due pubblicazioni. Cosa aveva rappresentato? Quali erano state le intuizioni nel 95? Quindi cambiamento, innovazione, qualità del sistema formativo, gli standard formativi come un tassello essenziale per organizzare il repertorio dei percorsi formativi, un punto di riferimento stabile e versatile dei profili e delle competenze professionali. Ecco, questi sono i termini che la stabilità, la certezza, ma dall'altra anche la versatilità. E all'interno di questo percorso darsi e dotarsi, elaborando insieme, perché tutto questo materiale, anche le delibere e gli allegati più metodologici, erano stati frutto di un lungo lavoro collettivo della Commissione Standard Formativi e di gruppi tecnici. Quindi strumenti operativi per la progettazione e naturalmente era stato il primo esempio di schede descrittive relative agli iter formativi standardizzati. Poi c'erano gli standard, quelli non standard, quelli in osservazione. Un percorso dinamico. In quel momento contavano anche rendere pubblici i processi di definizione delle qualifiche, un'occasione per migliorare continuamente l'offerta formativa e rendere trasparente il percorso e le certificazioni. Ecco, in sostanza, quello è stato un periodo. Quando alcuni elementi di fondo restano, certo ce ne sono molti di profondo cambiamento. Siamo, e una delle analogie è che siamo di fronte all'attuazione di una nuova legge, approvata la legge 32, approvata nel novembre scorso. Questa legge pone al centro tre termini. Ogni persona, quindi la persona e gli interventi che andiamo a pensare sono attenti, partono e si concludono per la persona. L'integrazione delle politiche, quindi se allora parlavamo di formazione professionale, qui parliamo di integrazione delle politiche, di formazione, lavoro e orientamento. E poi questa forte attenzione al risultato, come queste politiche portano al cambiamento della vita delle persone. Oggi cosa vediamo? Naturalmente questo vi verrà presentato con maggior dettaglio. Il tema della certificazione vede comunque l'esplettamento e la funzione e la competenza della Regione all'interno di un quadro nazionale definito. Anche su questo oggi non è tema di discussione, ma è un quadro dinamico. C'è una profonda riflessione tra Regioni, Ministero del Lavoro, ma anche fondi interprofessionali sul come operare all'interno dei processi di certificazione e dei descrittori. Oggi vediamo una revisione complessiva e una manutenzione straordinaria del repertorio. Una stretta relazione, sempre più stretta relazione tra le competenze coi fabbisogni. Un'attenzione particolare alle competenze green e digitali, come del resto siamo stati accompagnati ad evidenziare nei percorsi del PNRR. Un'attenzione alle soft skills. Siamo, citavo i riferimenti nazionali, certo che, e come dicevo anche, i repertori sono un elemento che dà stabilità, ma nello stesso tempo deve essere versatile. Il percorso sul quale vogliamo lavorare è anche quello di una sempre maggiore semplificazione, una possibilità di certificare parzialmente i percorsi, quindi un'attenzione particolare alla modularità, in particolare le competenze sono state riscritte per essere autoconsistenti e un'attenzione al fornire dei servizi che possano supportare i percorsi di individuazione e validazione delle competenze. Quindi l'IVC, la individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Ecco quindi che ci muoviamo in un contesto all'interno del quale la complessità continuerà, continueremo a lavorare attenti da un lato ai fabbisogni, alle innovazioni, anche Regione Piemonte sta attivando delle analisi dei fabbisogni proprio attenti all'innovazione, all'S3 in particolare. Un'attenzione alle competenze, all'evoluzione delle competenze, ma anche alle metodologie per descriverle, anche oggi durante la giornata nella seconda parte ci saranno degli elementi e degli interventi a questo proposito. Così come sono importanti gli strumenti, gli strumenti con cui raccogliere, descrivere e promuovere le competenze. Bene, queste sono alcune riflessioni in parte per ricordare, però soprattutto per dire che il tema che stiamo affrontando è un tema molto importante, è un tema di raccordo, di raccordo tra tutte le politiche e naturalmente un tema che non vede soltanto l'apporto di esperti, ma da ogni punto di vista occorre lavorare continuamente alla manutenzione, alla costruzione del nuovo e al cambiamento. Grazie, buona giornata. Grazie direttore, ma soprattutto grazie per aver ricordato il famoso libro blu che è nel cuore ancora di molti di noi. Esatto, grazie ancora. Adesso prende la parola la dottoressa Erika Peirolo, dirigente del settore formazione professionale, porta i saluti del suo settore e poi sentiamo cosa ci racconta. Grazie, buongiorno a tutti. Prima di tutto permettetemi questa battuta. Il nostro direttore ci ha ricordato la storia, ci ha ricordato quanto sono importanti alcuni momenti di avvio e di passaggio e quanto sono importanti i percorsi. Io coglierei l'occasione, Arturo, direttore, a nome mio e di tutta la struttura della direzione istruzione, formazione e lavoro di ringraziarti per questo lungo percorso che abbiamo fatto insieme e per i risultati che abbiamo raggiunto, a cui tutti abbiamo contribuito ma che senza di te non sarebbero stati possibili. Perciò grazie. Bene, dicevamo partiamo da una storia che ha avuto delle parole chiave, innovazione, qualità, trasparenza messa in valoro. Questi sono a mio parere dei punti chiave che continuano ovviamente ad avere il loro valore e la loro importanza. Nello stesso tempo guardiamo a un presente, a un futuro che hanno rappresentato, stanno rappresentando un forte cambiamento. Abbiamo un mondo del lavoro fortemente dinamico, in continua evoluzione, nuove professioni, nuove competenze che richiedono nuove competenze tecniche, specialistiche, competenze trasversali. Ecco che in un quadro come questo il repertorio delle qualificazioni assume ancora un significato ancora più pregnante di quello che già gli è assegnato. Le persone continuano, devono continuare ad aggiornarsi e lo stesso vale per il repertorio. Il lavoro che verrà presentato oggi poi non dico tanto perché non voglio spoilerare, però lo sapete benissimo perché tutti voi avete collaborato alla sua realizzazione. È un lavoro importante, impattante perché ha visto la revisione complessiva non solo dei contenuti ma anche del contenitore. Quindi è sicuramente un lavoro che è stato partecipato ed è stato intenso, che naturalmente non si fermerà perché non si può fermare. Come le persone si aggiornano, il repertorio si aggiorna e continua a crescere, a modificarsi. Così come l'offerta formativa che trova il suo contenuto più pregnante nel repertorio si evolve e ha assunto nel tempo delle caratteristiche molto diverse da quelle precedenti. Oggi noi lavoriamo molto sulla flessibilità che vuol dire tante cose, vuol dire avere degli strumenti di programmazione che consentano di progettare percorsi in risposta dinamica ai bisogni delle persone e delle imprese, vuol dire avere la possibilità, lo diceva già prima il direttore, di pensare a percorsi lunghi e strutturati ma anche a percorsi brevi, modulari. Vuol dire avere attenzione alla capitalizzazione dei percorsi sempre più discontinui che le persone fanno tra momenti di apprendimento, tra l'altro anche in contesti non semplicemente di apprendimento formale e quindi l'importanza della certificazione delle competenze e i momenti invece di attività lavorativa. Vuol dire avere la possibilità di avere classi ma anche percorsi con con classi piccole, vuol dire pensare un'individualizzazione laddove è possibile delle esperienze, vuol dire avere un ventaglio di servizi di differenziato messo a disposizione che può essere composto in base alle esigenze delle persone. In tutto questo il repertorio dal punto di vista della formazione professionale certamente non è semplicemente uno strumento, men che meno uno strumento solo per addetti ai lavori, è un po' il cuore pulsante della formazione professionale che interviene e che è punto di riferimento quando si lavora sulla progettazione, quando si lavora sul riconoscimento delle persone che le persone, delle competenze che le persone hanno, sulla certificazione che significa poi spendibilità di queste competenze. In questo momento noi assistiamo ad un forte cambiamento del mondo della formazione. Molte persone che prima non si avvicinavano a questo mondo sono entrate, stanno entrando nel mondo della formazione. Questo significa avere a che fare con persone anche fragili in molti casi o comunque persone più lontane dal sistema dell'apprendimento che quindi hanno bisogno di percorsi costruiti sulla base di esigenze diverse. C'è il mondo delle imprese naturalmente che sempre più viene coinvolto all'interno di questi meccanismi sia quando si ragiona ovviamente di analisi dei fabbisogni, ma anche quando si ragiona di progettazione, di percorsi, di erogazione dei percorsi. C'è tutto il mondo delle piccole e medie imprese che ha necessità di essere supportato nel ripensamento, nella costruzione di competenze nuove. Tutto questo ha come punto di riferimento nodale il repertorio che si diceva in Piemonte ha una storia importante e sul quale bisognerà continuare a lavorare perché possa evolvere ed essere sempre più innovativo e di qualità così come è nato. Grazie mille. Grazie. Passiamo la parola adesso alla dirigente Nadia Cordero, dirigente del settore standard formativi e orientamento permanente, da dove praticamente è nata questa esperienza di revisione del repertorio grazie ad una sua idea. Quindi le lascio la parola. Il tema sarà quello della revisione del repertorio regionale alla luce delle evoluzioni normative nazionali e regionali. Prego. Buongiorno a tutti e ringrazio anch'io per l'attenzione che in tanti avete dato a questa opportunità per noi preziosa sia perché è un momento di sintesi sia perché è un momento anche di ringraziamento. Come è stato ricordato dal direttore, quello che raccontiamo oggi è un lavoro corale a cui hanno partecipato tante persone, molte sono qui, molte sono collegate, siamo più di trecento oggi a raccontarci questa esperienza di lavoro veramente ricca e interessante. Oggi parliamo di certificazione e parliamo di repertorio. Il direttore ci ha ricordato il passato remoto di questi concetti che sono però le nostre radici, quello che ci permette di stare in piedi, le radici ti fanno stare in piedi. È da lì che è partita la cultura di questa regione sugli standard, sulla progettazione. Quei linguaggi che lui ha ricordato sono ancora i linguaggi di oggi, si sono trasformati, si sono decodificati, si sono evoluti perché tutto deve cambiare. Ma è come l'energia, come se questi standard un po' fossero l'energia della formazione che nulla si distrugge, tutto si trasforma e quindi mi piace vederla anche un po' così. Oggi appunto siamo, per fare il punto dove ci siamo trasformati, un ulteriore salto che abbiamo cercato di fare con questa revisione a 12 anni dalla più consistente revisione del del 2012 che avevamo fatto per cambiare proprio format descrittivo delle nostre competenze. In allora avevamo adottato il format nazionale, quello dell'IFP, l'avevamo fatto nostro per tutto il sistema ed era stato anche quello un lavoro molto corposo, molto importante e anche questo è un lavoro di linguaggi, di struttura, di quello che oggi invece il lavoro è diverso, ve lo racconteremo, ma è un lavoro che si inserisce anche in un quadro cresciuto a livello nazionale. Ci tengo molto a ricordarlo perché dà anche forza a quello che tutti noi stiamo facendo tutti i giorni, un quadro che appunto si è arricchito in un periodo tutto sommato breve. Oggi siamo tutti di corsa, ai dieci anni sembrano tanti, ma in realtà è breve questo periodo dove sono successe tante cose, una normativa sulla certificazione ricca, puntuale, che certamente è magari ancora da rodare, da mettere a punto, da rivedere, ma che ha comunque dato dignità a questi temi della certificazione, ha dato anche forza alla certificazione che poi è quello che rimane il cittadino perché la formazione passa, rimane un ricordo, rimane un apprendimento che ti aiuta a crescere, a vivere nella vita e quello che testimonia, che rimane materialmente è quel pezzo di carta che deve essere scritto bene perché deve essere fedele a quello che è successo, a quello che tu hai veramente imparato e deve essere un pezzo di carta di qualità. È brutto parlare di pezzi di carta, soprattutto oggi che andiamo tutti verso la digitalizzazione, probabilmente ho usato parole non le più adeguate. Volevo invece essere più attuale e dire che certamente c'è stato dal decreto 13 in avanti una produzione normativa molto ricca su questi temi. Il fatto che sia nato un atlante delle professioni dentro il quale c'è un quadro delle qualificazioni regionali che permette a tutte le qualifiche regionali di essere in dialogo tra loro. Oggi avremo con noi Rita Porcelli, che è il cuore di questo lavoro preziosissimo che abbiamo fatto insieme e che permette di rendere evidente il respiro nazionale della nostra formazione e di quello che lasciamo. Ma il respiro non è solo nazionale, il respiro è europeo, tant'è che anche l'ultimo passaggio dell'ultimo rapporto EQF, che ha finalmente incluso le qualifiche regionali non presenti nel precedente rilascio, invece presenti in modo più evidente e strutturato come parte integrante del sistema di istruzione e formazione italiano, rende più forti e più spendibili le nostre qualificazioni. Quindi il quadro EQF, ma tutto questo poi si inserisce anche in una normativa anche regionale che nel frattempo sia adeguata. Tutti noi sappiamo che con la legge regionale 32 abbiamo rinnovato il nostro dispositivo di riferimento cercando appunto di andare verso questa integrazione che ci richiamavano Arturo e Enrica. La legge dedica ben tre commi dell'articolo 56 al repertorio e questi tre commi sostanzialmente pongono l'accento sul fatto che il repertorio debba essere un repertorio che sta in un contesto nazionale ed europeo e che debba essere un repertorio agganciato a quello che succede nel modo del lavoro, non può essere uno strumento asetico. Principi che noi abbiamo sposato da sempre e che oggi hanno la forza anche di una loro esplicitazione in legge e che ci guideranno ancora nei prossimi anni. Come nasce quindi questo lavoro? È un lavoro appunto che nasce per garantire una manutenzione non solo ordinaria, i repertori sono vivi se sono aperti. Da sempre la regione accoglie proposte che possono venire da agenzie, da imprese, possono venire da altre direzioni, possono venire anche da singoli cittadini, per arricchire e manutenere il proprio repertorio. Ma oltre alla manutenzione ordinaria è fondamentale la manutenzione straordinaria, una manutenzione, il momento in cui ci si ferma e si pensa ok dove siamo? È veramente questo il prodotto che mi serve oggi? Noi ci siamo fatti ispirare due anni fa, forse anche quasi tre, da questo tema dell'anno delle competenze a cui ci avvicinavamo e quindi l'idea di dire ma dove sono le competenze della regione? Il primo posto sono tutte scritte lì, sono le nostre duemila e fischia, forse quasi tre mila, oggi vedremo bene tutti i numeri, ma sono proprio quelle, possiamo far qualcosa per renderle più attuali e quali sono oggi le traiettorie, le cose che ci devono guidare in questo sforzo che dobbiamo fare per appunto a far evolvere ancora questo strumento in una logica di qualità e ci siamo dati questi criteri che un po' sono stati ricordati e poi non voglio anch'io anticipare i temi che più nel dettaglio racconterà la mia collega Bertarello che è stata il cuore di questo lavoro e che ha guidato e che colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente perché è stata un punto di riferimento veramente importante per questo lavoro così complesso anche. Diciamo che quello che mi premeva anche sottolineare che il repertorio è uno strumento e che come tutti gli strumenti penso non bisogna neanche innamorarci se ne è troppo, anche se li abbiamo creati noi, anche se li usiamo da sempre. Gli strumenti devono essere dei mezzi con i quali noi viaggiamo e devono consentirci, è la macchina che ci permette di viaggiare, quindi è giusto revisionare la macchina, magari aggiungere dei pezzi, però non è il fine la macchina, il fine è il servizio che noi diamo, è l'obiettivo che traguardiamo, cioè spingere veramente a dei contenuti che possano essere poi d'aiuto alle persone a vivere o nel caso appunto laddove li utilizziamo questi contenuti per la formazione o nel caso della certificazione dell'EVC contenuti che siano veramente legati anche all'attualità di oggi e quindi che possiamo riconoscere e validare. Non voglio farla tanto lunga, come ho detto è stato un lavoro corale, questa manutenzione è straordinaria e i contributi sono stati di vario tipo. Ci sono persone che le abbiamo coinvolte tre volte a settimana in questo percorso e che insomma sono anche contenti che sia finito e immagino che quindi sono le prime che ringrazio, però veramente abbiamo fatto tanti confronti con le università, con i colleghi di altre direzioni, a volte il contenuto di chiunque fosse magari era anche solo un confronto per uno spunto, una verifica. Quindi c'è chi ci ha messo proprio le mani in pasta e ci ha lavorato tre giorni a settimana e c'è chi è stato disponibile ad ascoltarmi di fronte ad un dubbio. Io ringrazio tutti, è stato veramente interessante, torno a ripetere, questo lavoro e spero anche utile. È un lavoro peraltro sulle parole, il lavoro sul repertorio. Io questo lo voglio ricordare perché le persone che lavorano sul repertorio, hanno questo, fanno questo sforzo di sintesi perché poi il repertorio sono le professioni e le competenze di una professione, in cinque, cinque o sei competenze descrivono un lavoro. È mai possibile che un lavoro sia chiuso in cinque o sei frasi? No, è chiaro che no. La ricchezza di un lavoro è enorme, ha tante sfumature, però noi non possiamo fare un tema, ma dobbiamo arrivare a una sintesi. Questa sintesi che deve comunque evocare delle cose, deve dare delle suggestioni nella giusta direzione, quella dell'attualità, richiede una mediazione linguistica, passatemi il termine. Questo è il lavoro che ha fatto la nostra assistenza tecnica che è ormai rodatissima su questo, un lavoro di mediazione proprio linguistica per arrivare a trovare le parole giuste, quelle poche, che però invece riescono a dire tanto. E quindi è un lavoro che si è sforzato di essere chiaro in ciò che suggerisce attraverso questa sintesi. non è stato solo un lavoro sul contenuto, ma anche sul contenitore, perché gli strumenti devono anche essere facili da usare, devono essere moderni, devono insomma essere attuali e quindi uno sforzo anche sul contenitore che abbiamo rivisto, questo è lo strumento proprio della vetrina, la cosiddetta vetrina, dove il repertorio è presente e che oggi vi verrà presentato. Quindi io non andrei oltre per non rubare altro tempo ai relatori. Grazie Nadia. Passiamo adesso la parola alle rappresentanti di INAP che sono collegate e parleranno dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, quadro nazionale delle qualificazioni regionali e repertorie regionali, prospettive e interoperabilità. Sono la dottoressa Rita Porcelli, che è responsabile di ricerca dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e Stefania Camassa, ricercatrice di INAP. Lascio loro la parola, grazie. Prego Rita. Eccomi, buongiorno. Prima di tutto grazie, grazie dell'invito, grazie mille, grazie anche per le parole che sono state usate. La dottoressa Cordero ha usato una serie di parole che a me non sembrano... è molto bello sentire la parola ancora carta e il valore della carta, secondo me, perché ci sono poi una serie di significati nel decreto 13 che è stato citato che sono stati poi evocati nelle parole che sono state richiamate. Con la mia collega Stefania Camassa oggi non ripercorreremo l'intero impianto del sistema perché ormai è diventato un patrimonio conoscitivo nazionale che non c'è bisogno, mi auguro, di dover ripercorrere, soprattutto perché appunto siamo in una regione che ha fatto dei principi di quel decreto una ulteriore evoluzione. Ricordare le radici è fondamentale perché sulle radici si costruiscono poi sistemi che hanno la forza di reggere e di portare avanti le evoluzioni, perché le evoluzioni hanno bisogno di fondamenti, fondamenta importanti, altrimenti rischiano di essere parole e spesso, come dire, osserviamo ambiti nei quali poi le parole non si radicano perché non sono fondate su radici davvero profonde e invece sono molto lieta oggi di essere qui a rappresentare il lavoro che abbiamo fatto con Regione Piemonte e che con Stefania Camassa presenteremo, che racconta come su un sistema di questo tipo sia stato possibile fare un avanzamento pieno, pieno che racconta le virtuosità di questo sistema incardinato nel decreto 13 che utilizza parole come interoperabilità, questa parola così difficile anche da pronunciare, ma che ha un significato importante, ha un significato importante perché nell'interoperabilità a livello nazionale condiviso con le regioni che sono stati gli attori principali nella scrittura dei decreti che oggi rendono possibile in Italia il sistema nazionale di certificazione delle competenze e i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Questa parola per essere agita ha bisogno di quello che la dottoressa Citava, contenuti e quando si parla di contenuti si parla di parole, le parole hanno un valore importantissimo nei nostri lavori perché le parole descrivono gli apprendimenti delle persone, descrivono l'agito in contesto delle persone, sono il mezzo attraverso il quale possiamo connettere il lavoro e la formazione che era il cardine della legge 92 e il principio su cui è stato costruito il decreto 13 del 2013, le parole ci aiutano a rendere possibile e agibile il riconoscimento degli apprendimenti delle persone in qualsiasi fase della vita e rendono possibile la mobilità dei cittadini intraregionali, extraregionali e altra parola citata poco fa, europea, quindi internazionale. Soltanto quando queste parole sono scritte in una maniera chiara e sono condivise in un linguaggio unico ed è quello il lavoro che abbiamo fatto, possiamo davvero dire che i principi che ci siamo dati tutti insieme, condividendoli, stanno diventando qualcosa di davvero agibile. Io mostrerò con la mia collega pochi slide, ma vi vogliamo raccontare in che modo abbiamo reso, come abbiamo lavorato con Regione Piemonte, perché siamo qui a raccontarvi in un modo anche da ulteriore avvio, nel senso che oggi vorremmo darvi alcuni spunti relativi alla possibilità di fare anche in tutte le altre regioni d'Italia questi ulteriori passaggi in modo da rendere possibile e vera quella parola dell'interoperabilità e appieno, appieno su tutte le sue funzionalità. Allora, l'attuante del lavoro e delle qualificazioni per chi lo ha navigato, per chi ha letto la politica nel quale è stato implementato, nasce per rendere possibile la messa in connessione di queste famose parole lavoro e si diceva formazione, ma come tutti noi sappiamo a noi piace di più e dico noi perché intendo quando dico livello nazionale, intendo tutti gli attori che sono stati citati nel primo intervento, quindi le regioni, tutti i ministeri, quindi gli enti pubblici titolari, ma anche tutti gli enti titolati del sistema, ci piace usare la parola apprendimento perché è fondamentale questo passaggio, è fondamentale ricordarci che oggi è possibile per le persone vedersi riconosciuti ciò che hanno appreso in tutti i luoghi della loro vita e il lavoro che voi come regione avete fatto e che stanno facendo tutte le altre regioni ciascuna con i propri tempi rende possibile il riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti anche della formazione e della qualificazione delle persone. Dall'altra parte questi apprendimenti vanno connessi con il lavoro, ci diceva il decreto e lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto, diceva la dottoressa Cordero, questo lavoro non si ferma mai, è un lavoro circolare, c'è una circolarità di aggiornamento perché il lavoro evolve, necessita di nuove competenze, per poterlo descrivere questo lavoro c'è bisogno di ascoltare tutte le parti, tutte le parti sono coloro che partecipano alla manutenzione evolutiva dell'Atlante del Lavoro, sono tutti i soggetti che noi sentiamo annualmente per aggiornare l'Atlante del Lavoro. Questo lavoro di aggiornamento dei descrittivi del lavoro e quindi delle parole con cui descriviamo le attività lavorative italiane aiutano poi ad arricchire il contenuto delle competenze che sono descritte nei repertori regionali e che rendono, repertori regionali e nazionali a tutti i livelli di tutti gli enti pubblici titolari, rendono possibile, questa circolarità rende possibile l'aggiornamento costante dei contenuti di questi due mondi che abbiamo attraverso questo sistema messo in connessione. E sempre più mettiamo in connessione perché ci siamo accorti che la scelta fatta nel 2013 insieme, tutti insieme, questo lo ricordiamo sempre, che è stata una scelta strategica e virtuosa aver immaginato di costruire un sistema che descrive il lavoro al quale connettere le competenze, questo sta rendendo sempre più possibile tanti lavori, una divulgazione ancora più importante di quelle che sono le parole chiave su cui costruire anche le vacancies e quindi poter favorire sempre più questo match puntuale tra i fabbisogni che le imprese hanno e la formazione che viene erogata o comunque le competenze che vengono sviluppate per costruire percorsi personalizzati rivorti ai certadini. L'altra parola chiave che fino ad ora abbiamo sentito è la persona al centro, ce lo siamo sempre detti, e gli operatori al centro che lavorano con le persone. Quindi connettere i sistemi è un'azione complessa, questo lo sappiamo, ce lo siamo detti da sempre, ed è un'azione complessa perché si riferisce a tante relazioni, relazioni tra contenuti, lo abbiamo appena detto, relazioni tra sistemi informativi ed informatici e questo è il tema di cui parlerà in modo particolare la mia collega Stefania Camassa, relazioni tra servizi, perché sappiamo bene che il servizio IVC si innesta all'interno delle politiche attive tutte e quindi è connesso con tutti i sistemi che vanno dall'orientamento fino all'inclusione, passando per tutti i temi della formazione. Quindi è un sistema che connette tra di loro servizi, servizi che devono fare in maniera puntuale invii, perché gli invii sono una cosa importantissima, ma per farli bisogna creare delle relazioni sinergiche tra tutti coloro che in questi sistemi lavorano, pubblico privato che sia. Relazioni nei servizi tra i professionisti, gli operatori e i cittadini e questo è altro nodo importantissimo. Oggi abbiamo un sistema unico nazionale che usa parole condivise dal nord a sud dell'Italia. Questo non era scontato, non era scontato che ci saremmo riusciti, ci siamo riusciti e di questo siamo particolarmente fieri perché oggi gli operatori con cui ci interfacciamo ci dicono possiamo, abbiamo anche un vocabolario comune. Quando oggi utilizziamo delle parole sono parole che tutti sappiamo, che tutti utilizziamo allo stesso modo. Poi è evidente che la relazione si costruisce nel qui ed ora e le relazioni sono tutte diverse e ciascun professionista, ciascuna persona che arriva ai servizi mette se stessa. Non stiamo parlando di omologare o di schiacciare, stiamo parlando però di avere cornici di senso e cornici di da un lato valori etici ma dall'altro temi che trattiamo che è fondamentale. Relazioni tra istituzioni sono il fondamento del sistema nazionale di certificazione delle competenze e è nato basandosi su questo e continuiamo a lavorare su una relazione virtuosa tra i servizi. È stato citato il rapporto QNQ e QF che anche quello nasce dopo un lavoro di interazioni tra i sistemi fondamentali. Quindi abbiamo detto un sistema circolare di aggiornamento che lega all'interno dell'atlante del lavoro e parole chiave dell'atlante del lavoro e delle qualificazioni. Delle qualificazioni è la parte di questo sistema che contiene il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione delle qualificazioni professionali all'interno della quale una sezione fondamentale è rappresentata dal quadro nazionale delle qualificazioni regionali. Come sapete nel quadro nazionale delle qualificazioni regionali sono raccolti tutti i repertori delle 21 regioni d'Italia che si connettono tra di loro attraverso un sistema che mette in dialogo parole ma crea una possibilità di riconoscimento e di standardizzazione virtuosa sempre più che anche qui non significa schiacciare le possibilità di identificare lì differenze territoriali ma significa rendere possibile e comparabile e confrontabili gli oggetti ai fini di individuare gli elementi chiave uguali e le diversità. Questo rende possibile come come l'abbiamo detto Atlante ha tante come dire tante metafore abbiamo utilizzato per raccontare Atlante ma Atlante è proprio una so una mappa all'interno della quale così siccome quando ci muoviamo nelle città abbiamo il nostro glossario anche qui quando ci confrontiamo dobbiamo avere degli elementi di confronto altrimenti le valutazioni sarebbero astratte e si fonderebbero su elementi che non sono condivisi da tutti. Il quadro nazionale favorisce invece una comparazione tra oggetti mi permetto di dire oggettiva per le possibilità di questa oggettivizzazione e vedremo con Stefania in che modo. Io chiudo la mia parte, passo la parola a Stefania. Stefania interrompo, prendi tu la condivisione? Non la sento. Mi sentite? Sì? Buongiorno a tutti. Sì va bene ok allora proseguo io da qui e allora condivido ecco ditemi se vedete. Non ancora. Adesso? Non ancora altrimenti le ricondivido io sì infatti se entro tre secondi non si condivido eccoci ok eccoci perfetto allora riprendo da qui praticamente e riprendo proprio andando immediatamente a diciamo raccontare quello che brevemente è stato fatto recentemente per favorire l'interoperabilità che può essere può riguardare diversi aspetti e diversi livelli e noi invece abbiamo scelto di lavorare in due direzioni precise favorire l'interoperabilità tecnica e l'interoperabilità organizzativa per quanto riguarda l'interoperabilità tecnica ciò che è stato fatto è stato quello di cercare di consentire ai sistemi informativi di comunicare in maniera immediata e di garantire quindi lo scambio in tempo reale delle informazioni e l'allineamento il più possibile in tempo reale e questo si è lavorato sul lato tecnico proprio perché sono state sviluppate grazie anche al contributo della regione Piemonte delle API application program interfaces che espongono appunto le informazioni dell'Atlante le rendono immediatamente fruibili e disponibili dai sistemi che vogliono interfacciarsi e l'interoperabilità organizzativa invece abbiamo lavorato in questa direzione per cercare quindi di favorire il coordinamento dei processi e delle attività di lavoro e anche delle scelte operate soprattutto al momento del posizionamento in Atlante da parte dei repertori regionali delle proprie qualificazioni in modo tale da consentire quindi potenziare il confronto e diciamo la la standardizzazione progressiva di procedure metodi e considerazioni questo è stato attuato all'interno invece dell'area riservata al gruppo tecnico del QNQR. Allora qui faccio un bellissimo riferimento ovviamente al decreto che tutti noi conosciamo nel 30 giugno 2015 proprio per introdurre il quadro nazionale delle qualificazioni regionali all'interno del repertorio nazionale e riferimento unico e unitario per la correlazione l'equivalenza a livello nazionale delle qualificazioni regionali e per la loro progressiva standardizzazione. Lo cito perché ovviamente come tutti voi sapete all'interno del sito web dell'Atlante esiste un'area riservata al gruppo tecnico QNQR delle regioni dove le regioni gestiscono autonomamente il posizionamento delle proprie qualificazioni all'interno dell'Atlante quindi in autonomia ciascuna regione mantiene allineato il proprio sistema di qualificazioni con il sistema centrale dell'Atlante e lo fa sia in termini di aggiornamento dei contenuti descrittivi intrinseci delle qualificazioni quindi proprio della delle sue competenze delle conoscenze delle abilità proprio in allineamento con quelli che sono il lavoro di aggiornamento viene fatto all'interno di ciascun repertorio e sia anche in riferimento a invece gli oggetti dell'Atlante che sono i settori le ADA e le attività delle ADA quindi in particolare ciò che le regioni fanno all'interno di questo di quest'area riservata è agganciare le qualificazioni ai settori economici professionali dell'Atlante e alle aree di attività e in particolare un lavoro molto importante che viene fatto è quello di correlazione fra le competenze delle qualificazioni e le attività delle ADA lavoro che consente appunto di valorizzare il posizionamento in Atlante perché ovviamente l'associare le competenze all'attività permette di individuare quindi le attività che vengono di fatto presidiate e vengono controllate e presidiate e gestite attraverso le competenze della qualificazione. Ora parliamo di gruppi di correlazione rispetto all'ADA quando abbiamo delle qualificazioni che si comportano allo stesso modo rispetto ad un ADA e in particolare si comporta rispetto allo stesso modo rispetto ad un ADA quando coprono con le proprie competenze presidiano tutte le attività e quindi anche tutti i risultati attesi di una determinata ADA. il lavoro che è stato fatto quindi diciamo nella nel gruppo nella nell'area riservata esistono degli strumenti che consentono appunto di svolgere questa attività e di individuare questi gruppi di correlazione ciò che è stato pensato e che è stato poi attuato è quello di dare la possibilità di vedere quello che accade al di fuori della scatola dell'ADA quindi di avere una visione dall'alto in modo tale da vedere che cosa succede alle qualificazioni che appartengono ad un gruppo di correlazione rispetto all'ADA fuori dall'ADA e questa schermata che vi mostro alcuni l'avranno già sicuramente vista altri no è proprio siamo entrati all'interno dell'area riservata alle regioni e questo è un estratto del modulo che consente alle qualificazioni di modificare aggiornare alle regioni di modificare aggiornare le qualificazioni del proprio repertorio all'interno dell'Atlante e in questo modulo esiste in particolare uno strumento che è lo strumento competenze dove appunto viene gestita la correlazione lavoro che dicevamo prima l'associazione delle singole competenze e la qualificazione alle attività dell'ADA ed è stato aggiunto questo nuovo pulsante che si chiama confronta che consente appunto di andare a vedere rispetto all'ADA che cosa succede e fuori dall'ADA che cosa succede e questo rispetto consente alle regioni di guardare le proprie qualificazioni nell'Atlante e vedere fuori e dentro l'ADA come le altre qualificazioni degli altri repertori regionali si sono comportati. Ecco cliccando su quel tasto confronta una regione quindi ha la possibilità di vedere per ciascuna qualificazione nella colonna di sinistra tutto ciò che riguarda la qualificazione nell'Atlante quindi le ADA che sono associate per ciascuna competenza le attività che sono state presidiate che sono presidiate con ovviamente il dettaglio dell'ADA in questo caso la qualificazione che abbiamo scelto era la qualificazione del Piemonte come esempio il tecnico stilista progettista moda è associato ad una sola ADA qualora ve ne fossero di più ci sarebbe la possibilità di vedere per ciascuna competenza le attività di tutte le ADA che ovviamente sono presidiate da quella competenza. Nella colonna di destra invece abbiamo la possibilità di vedere che cosa succede dentro e fuori dall'ADA rispetto agli altri repertori regionali quindi quello che si vede in questo caso è che il gruppo di correlazione di cui parlavamo prima ovvero le qualificazioni che coprono tutte le attività e tutti i risultati attesi dell'ADA con le proprie competenze quindi presidiano l'ADA sono quattro e sono delle ma tecnico nel vedere le slide non si vedono esatto è saltata la condivisione si non si deve ricollegarsi ti riprovo subito se ci sono difficoltà le possiamo mettere su noi vero? si certo allora magari facciamoci così ci sono riuscita di nuovo? al momento non le vediamo ah forse adesso ci va un momento ok perfetto grazie ci siamo questa è la insomma vabbè facciamo vedere direttamente questa perché è quella che poi ci interessa più di tutte che è proprio quella che fa questa diciamo questa visione dall'alto che abbiamo pensato potesse essere utile proprio per potenziare e favorire il confronto fra le qualificazioni regionali quindi all'interno dell'ADA che sono quelli poi ovviamente l'ADA segnata in verde è quella che io sto considerando sto guardando in questo momento perché l'ADA associato alla mia qualificazione tecnico stilista progettista moda vedo il gruppo di correlazione ovvero le altre qualificazioni dei repertori regionali che si comportano allo stesso modo cioè con le proprie competenze presidiano questa attività e quindi coprono tutti i risultati attesi di questa ADA e poi vedo che però il disegnatore di moda della Basilicata ha anche è anche associato ad altre due ADA e probabilmente in questa è la in corso di sviluppo e sarà prossimamente disponibile potrò vedere anche oltre ad avere quindi ad essere associato ad altre due ADA in che modo presidia quelle ADA se le copre totalmente, parzialmente, quali risultati attesi di quell'ADA sono coperti oppure potrei in questo caso non si è verificato ma avere una qualificazione che ha delle ADA in meno rispetto alla mia quindi io posso vedere quello che succede all'interno dell'ADA e immaginare quindi le qualificazioni che sono come me in quest'ADA quindi che sono come la qualificazione che sto guardando all'interno dell'ADA in che differiscono o sono simili anche fuori dall'ADA quindi questa nuova funzione l'abbiamo pensata proprio per potenziare il confronto e favorire l'interoperabilità fra i sistemi regionali all'interno dell'Atlante ovviamente l'interoperabilità tecnica invece è quella che consente ai sistemi regionali quindi di favorire l'interoperabilità fra i sistemi regionali e il sistema Atlante, il sistema centrale ed è un lavoro che è stato fatto nell'ambito di una sperimentazione proprio con la regione Piemonte e ha permesso appunto di definire queste API che al momento espongono in GET i dati di Atlante lo step successivo sarà lavorare sulle API imposte cioè la possibilità di avere invece la ricezione dei dati da parte dei sistemi regionali l'esposizione da parte dei sistemi regionali verso Atlante delle informazioni e come è scritto qui nella slide il ringraziamento va alla regione Piemonte perché effettivamente se siamo arrivati a pubblicare sono attualmente pubblicati questi sei nodi individuati all'interno dell'esperimentazione per raccontare non soltanto l'Atlante e quindi esporre tutte le informazioni dell'Atlante perché cinque su sei di questi nodi possono essere disponibili sono a disposizione non solo dei sistemi regionali ma di qualsiasi sistema informativo che voglia appunto allacciarsi all'Atlante perché riguardano SEP, processi, sequenze, ADA, risultati attesi e poi in particolare il contributo fondamentale della regione Piemonte è stato proprio per sviluppare il nodo QNQR che è stato progettato proprio esclusivamente per consentire l'allineamento fra i repertori regionali e l'Atlante e senza entrare nei dettagli tecnici e non portare via troppo tempo questo nodo permette di esporre informazioni tutte le informazioni che sono attualmente presenti all'interno dell'Atlante che riguardano i repertori regionali sicuramente il repertorio di riferimento gli identificativi della qualificazione il titolo, la data di inserimento della qualificazione del QNQR ovviamente il settore economico professionale le ADA associate al profilo col dettaglio di codice e titolo per ciascuna ADA vengono mostrati i risultati vengono esposti i risultati attesi coperti dalla qualificazione il numero totale, il dettaglio con codice e copertura le competenze della qualificazione con i corrispondenti sottoelenchi di conoscenze e abilità e la correlazione con le attività dell'ADA associate con tutti i dettagli tecnici che servono per poter tenere i sistemi allineati e io sono molto contenta di poter pubblicamente ringraziare la Regione Piemonte per questo lavoro che per noi è stato estremamente soddisfacente e che ci ha permesso di tracciare una nuova rotta dell'Atlante Grazie Grazie alle referenti di INAP per aver esplicitato nel dettaglio quelle che sono anche le attività che vengono svolte con le regioni e in particolare con la nostra regione per il lavoro che è stato svolto con loro mi presento adesso darò conto spero senza annoiarvi di quello che è stato il lavoro complessivo che oramai sta avvolgendo al termine sapete ci sono ancora delle code di lavoro che stanno per essere ultimate lo saranno nei primi mesi dell'autunno un lavoro che ci ha coinvolto per due anni intensi direi quindi se devo andare avanti io forse con le slide ecco il territorio riscrive le competenze partiamo dal titolo è già stato citato più volte un termine che è quello di un lavoro corale quindi un lavoro d'insieme che ha coinvolto il territorio in termini di persone che sono state chiamate a lavorare su questa revisione e manutenzione del repertorio ma territorio anche in quanto regione nel suo complesso con le esigenze, i fabbisogni delle imprese i fabbisogni delle persone anche persone è un termine che è stato citato nuovamente questa mattina proprio perché sono come dire dei focus centrali che abbiamo preso a riferimento per poter condurre questo lavoro di revisione e manutenzione del repertorio repertorio che era stato pubblicato è stato ricordato prima nel 2013 le cose, le persone le esigenze del territorio appunto si evolvono anche noi abbiamo cercato di stare al passo con i tempi e con le competenze abbiate pazienza utilizzo questo termine anche per quelle delle persone che hanno lavorato all'interno dei tavoli di ogni professionalità che è stata espressa proprio nel lavoro di gruppo ecco abbiamo cercato di rendere queste competenze già scritte più attuali più allineate ad un contesto nazionale ma anche internazionale che ci impone anche di essere più leggibili più chiari anche e trasparenti proprio nell'erogazione delle attività di formazione professionale provo a proseguire non sono capace aiuto lo faccio ma non succede niente di lato ok era spento perfetto grazie scusate non ho competenze in questi ambiti allora cerco di seguire nel mio discorso le slide per non sbrodolare troppo ma soprattutto perché ci sono dei contenuti che racchiudono in modo sintetico quello che è stato il lavoro realizzato e poi saranno collocate anche nel sito come era stato detto inizialmente allora gli obiettivi dell'aggiornamento del repertorio delle qualificazioni degli standard formativi di regione Piemonte intanto ci siamo posti un obiettivo quale obiettivo quello di come è stato detto rinnovare il repertorio attraverso un piano di attualizzazione cioè rendere più moderne più rispondenti ai tempi alle esigenze delle imprese delle persone che cosa i contenuti dei profili o degli obiettivi che sono che erano già all'interno del repertorio pubblicato il contenuto sempre più come spendibile a livello di programmazione e a livello di progettazione è stato ricordato anzitempo che cosa che ci sono delle esigenze particolari partiamo da un modo diverso di intendere la formazione professionale perché le esigenze delle persone la normativa nazionale lo sviluppo proprio dei tempi e le esigenze delle persone che si approcciano alla formazione professionale è cambiata nel tempo serve un approccio più dinamico più veloce più come dire adeguato anche alle esigenze personali che di coloro che si iscrivono ai corsi di formazione allora ecco questo è stata anche l'esigenza di dover rivedere i contenuti del repertorio in modo che andassero anche di pari passo con un'attività di programmazione che il nostro settore dedicato si occupa in modo specifico e poi come si diceva già prima allineato ai fabbisogni del mercato del lavoro il processo di aggiornamento che cosa ha su quale focus si sono concentrate le persone che hanno lavorato allora intanto abbiamo rivisto e descritto il format comune così come l'avevamo già però andando a riflettere bene sui loro contenuti quindi le competenze abilità e conoscenze tutti quindi i profili e gli obiettivi che sono contenuti nel repertorio hanno questo schema poi cosa è stato fatto è stato nuovamente referenziato ai codici statistici e delle classificazioni ISTAT NUP e Ateco un po' per essere allineati anche in questo caso a una condizione nazionale ed infine appena terminato l'intervento di INA in riferimento all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni dove ci sono stati appunto degli agganci con i settori economici produttivi SEP e la correlazione con le aree di attività le ADA che cosa è stato fatto contemporaneamente al termine della revisione di alcune figure di alcuni profili sono state operate anche altre attività che sono che andavano di pari passo per esempio la standardizzazione di alcuni percorsi in particolare quelli legati a professioni regolamentate tenendo presente che all'interno della nostra revisione noi non abbiamo toccato né le figure ordinamentali quindi dell'istruzione e formazione professionale e neppure i contenuti delle professioni regolamentate perché queste sono definite da altre norme non attiene a noi entrare nel merito di questo lavoro però abbiamo cercato per elevare anche un livello minimo di prestazione che richiediamo come erogazione di formazione alcune regolamentate le abbiamo standardizzate quindi operatore del benessere con i vari indirizzi l'operatore socio-sanitario e l'assistente familiare anche se non è regolamentato ma proprio per dare crediti in modo che possano essere riconosciuti all'interno del percorso di operatore socio-sanitario questo è avvenuto sempre nell'ambito di questo lavoro che abbiamo fatto per garantire anche un livello di erogazione qualitativo in modo che si parta tutti da una stessa come dire da un livello minimo contestualmente anche le prove standard laddove sono state richieste per tornando al lavoro legato alle figure invece regionali abbiamo standardizzato in moduli soltanto alcuni aspetti alcuni profili richiesti per una formazione molto puntuale molto specifica in particolare per la formazione continua domanda individuale tendenzialmente saremmo dell'avviso di non creare troppi percorsi standard perché adesso descriverò anche la motivazione abbiamo costruito e rivisto anche la come dire la modalità di erogazione di queste di questi profili in modo tale che possano essere rilasciate delle validazioni di competenze autoconsistenti cioè in grado di rilasciare delle capacità complete specifiche e laddove la standardizzazione non è più opportuna laddove si deve erogare una formazione personalizzata o comunque che vada incontro alle esigenze del singolo o di singoli gruppi con esperienze ed esigenze simili e che non diventi un contenitore rigido entro il quale noi dobbiamo creare dei percorsi come dire molto monolitici in questo caso allora gli obiettivi dell'aggiornamento del repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della regione Piemonte da che cosa che cosa ha seguito inoltre a quali altri aspetti oltre a quelli che sono già stati citati intanto gli elementi chiavi della della revisione sono stati come si è detto l'aggiornamento del contenuto l'introduzione di nuovi profili ed elementi perché durante la revisione prendendo profili obiettivi uno ad uno si è verificato se questi erano ancora rispondenti alle esigenze del mercato se questi dovevano essere resi obsoleti oppure modificati modificati con le modalità che sto leggendo si sono create come vi dicevo le competenze autoconsistenti anche per evitare il lavoro che già prima ho citato cioè quello di rendere di fare troppi percorsi standard che in questo momento creerebbero dei problemi se dobbiamo davvero mettere al centro la persona e le esigenze della persona la valorizza ecco e poi due aspetti principali che partono un po' dalle indicazioni comunitarie ma non solo abbiamo anche un piano di nuove competenze a livello nazionale che ci dicono alcune cose ci danno delle indicazioni precise rispetto a tutte le tematiche green quindi quelle legate alla sostenibilità ambientale dove ci sono implicazioni anche etiche dove bisogna dare attenzione in particolare a quella che è una sostenibilità ambientale e laddove si dice sostenibilità significa se io riesco con l'attenzione al riciclo all'ambiente a rendere possibile in questo caso l'erogazione del mio percorso formativo ma poi anche come cittadino e nella professione in particolare ad abbinare quelle che sono le esigenze ambientali con la professione che sto esprimendo oltre alle tematiche green l'altro aspetto importante sono quelle che riguardano le competenze digitali e tecnologiche che vanno di pari passo laddove un po' tutti noi utilizziamo i mezzi informatici dispositivi informatici ma quanto sappiamo sulla sicurezza sulla capacità di utilizzare lo strumento in modo sicuro ecco questo diventa complicato e l'importanza di inserire nei corsi di formazione professionale questi aspetti significa anche non solo formare dei bravi professionisti ma anche formare dei cittadini consapevoli e la formazione noi la pensiamo un po' a tutto tondo dove non c'è soltanto come dire la capacità di operare su determinati sistemi ma anche quello di essere un cittadino consapevole perché un cittadino consapevole è anche un bravo lavoratore con relazione tra nuovo repertorio e standard di progettazione bene da diversi anni a supporto della progettazione delle agenzie formative vengono redatti gli standard di progettazione standard di progettazione che anche questi appartengono ad un lavoro condiviso con le associazioni delle agenzie formative che nominano i loro rappresentanti in questi gruppi di lavoro e che sono un'importante traccia per poter progettare a livello didattico ma anche erogare i percorsi formativi ecco noi all'interno di questi standard di progettazione abbiamo ulteriormente come dire rimarcato come siano importanti questi due temi che vi citavo prima quindi il green e la digitalizzazione quattro attori direi all'interno del dei gruppi di lavoro di chi ha seguito i lavori di manutenzione allora intanto il settore standard formativi e il settore standard formativi rappresentato dalla dottoressa Cordero che da cui è partita l'iniziativa appunto di revisionare quindi a lei che bisogna dire grazie perché ha avuto questo spunto importante in un momento in cui davvero si sentiva l'esigenza di dover andare a ripensare quello che già era un prezioso documento il repertorio appunto e che cosa ha fatto il settore standard ha definito gli obiettivi e le tempistiche di lavoro tempistiche che insomma cerchiamo di mantenere secondo l'obiettivo che ci siamo preposti nonostante le difficoltà che già chi partecipa ai gruppi di lavoro conosce monitoraggio del lavoro svolto a garanzia dell'omogeneità dei risultati poi vi avrà raccontato dal dottor Bologna come è stata importante definire una metodologia che tenesse un filo continuo tra i vari gruppi delle commissioni tecniche per poter elaborare pur nella diversità delle varie delle varie aree di professionali un unico filo conduttore per poter realizzare la revisione delle figure e poi il rispetto del cronoprogramma quindi pungolare le varie commissioni in particolare la collega che coordina i gruppi in modo tale che ci sia un planning come dire un po' che esprima delle date a tambur battente per poter chiudere in tempi stretti le commissioni la commissione standard formativi è una commissione che già voi conoscete si raduna tre quattro volte l'anno secondo delle esigenze particolari e con cui abbiamo condiviso questo tipo di lavoro perché la commissione standard è rappresentata anche dalle associazioni delle agenzie formative ed è l'organismo al quale noi chiediamo l'autorizzazione ad avere le persone che vengono a lavorare all'interno delle commissioni tecniche e finalmente direi il cuore del lavoro che è stato svolto che è all'interno delle commissioni tecniche che con l'assistenza tecnica vedete sono sulle stesse colonna ma perché lavorano così in modo così stretto che è giusto che vengano considerate insieme e che hanno lavorato facendo l'aggiornamento quindi la modellazione aggiornamento degli elementi a repertorio progettazione dei percorsi formativi standard progettazione delle prove poi vabbè due righe su come sono composte ma già voi sapete e l'assistenza tecnica che è stata quanto mai preziosa per due motivi uno per la grande professionalità che ha espresso nell'agire in questo in questo lavoro direi corposo e la grande capacità di tenere i tavoli non è non è facile coordinare un gruppo di persone che lavorano e che a volte arrivano da esperienze diverse tali per cui non sempre si è d'accordo magari su di un termine su di un concetto e quindi la capacità che è stata espressa in questi tavoli da persone che sono in sala e che ringraziamo tutti con grande piacere ecco è stata molto importante questo ha fatto sì che insomma che cosa si siano prodotti che l'aggiornamento di revisione del repertorio e un focus specifico sulle commissioni tecniche come sono state composte va bene c'è stata la rappresentatività di quasi tutte le agenzie formative che sono appartengono alle associazioni di categoria c'è stato un impegno che abbiamo chiesto di diffondere le informazioni che venivano condivise all'interno dei gruppi perché spesso c'è un po' l'obiettivo che quando si lavora si lavora all'interno si è presi dalla foga di voler come dire portare a termine un lavoro ma poi le informazioni non escono però bisogna ricordarsi che all'interno dei tavoli si rappresenta un gruppo non si è presenti in quanto individui ma si è presenti in quanto rappresentanti e quindi ci deve essere anche questa sorta di responsabilità nel rappresentare le istanze di gruppi di persone gruppi di associazioni cosa si è chiesto per la composizione delle commissioni tecniche si è chiesta la competenza di materia perché era fondamentale nel momento in cui noi dobbiamo come dire dare evidenza che sta modificandosi anche il fabbisogno delle imprese capire anche il contenuto professionalizzante cosa serve cosa bisogna cambiare all'interno delle competenze specifiche di chi è esperto in materia ci siamo fatti affiancare anche da progettisti da chi conosce il senso e il sistema della progettazione perché diamo ancora molta importanza alla progettazione pensando che da lì si evince anche la modalità con cui viene erogato poi il percorso propositività rispetto a temi impostazioni del lavoro innovative possibilità di integrare i componenti delle commissioni in itinere questo è stato un aspetto molto importante perché al di là delle commissioni che sono state composte chiedendo la disponibilità alle varie associazioni poi non tutte le agenzie appartengono ad alcune associazioni ma soprattutto ci sono stati in alcuni casi c'è stato in alcuni ci sono stati alcuni casi in cui si è necessariamente dovuto ricorrere a degli esperti ancora più esperti di materia e quindi diciamo che i nostri gruppi di lavoro sono gruppi di lavoro aperti non sono gruppi di lavoro chiusi che una volta composti non possono essere integrati con altre con altre figure come è stato già più volte richiamato c'è stato un lavoro a tambur battente infatti le commissioni hanno avuto un modo di trovarsi ogni sette o quindici giorni vi ricordo che il tutto è iniziato in un momento in cui si era appena usciti dal lockdown e con ancora una forte esigenza di trovarsi a distanza e questo è stato da una parte un valore perché è riuscito a coinvolgere molte persone che magari con gli spostamenti erano magari più meno agevolati d'altro canto però c'è stata anche una difficoltà perché come voi tutti sapete quando ci sono delle call non sempre è così agevole andare a come dire lavorare tutti insieme quindi adesso abbiamo alcune in presenza alcune commissioni in presenza vediamo che i lavori si svolgono in modo un po' più agevole però voglio dire c'è stato l'aspetto sia positivo che negativo molto velocemente per arrivare al termine sono stati coinvolti quindici enti e associazioni che hanno presentato delle proposte perché io sono partita un po' dalla fine ma il tutto è iniziato da un'apertura di uno sportello straordinario dove si è chiesto al territorio ecco che torno all'origine del titolo dell'intervento al territorio si è chiesto avete delle proposte di nuovi profili nuovi obiettivi ci sono sul campo delle esigenze particolari beh per questo noi dal canto nostro avevamo con Ires che è il nostro istituto di ricerca ha anche effettuato una serie di rilevazioni di fabbisogni in alcune aree particolari e allora abbiamo aperto questo sportello che abbiamo chiamato straordinario perché di fatto sempre è possibile presentare delle proposte abbiamo una del Libera Monte che a breve sarà revisionata ma che è tuttora vigente con la quale è possibile poi seguendo le indicazioni presentare delle nuove proposte allora 15 enti ci hanno risposto sono arrivate 45 proposte e oltre il 50% di queste proposte attenevano a profili afferenti all'informatica meccanica turismo editoria e l'agricoltura sono stati citati prima dalla dottoressa Cordero anche come dire l'aver chiesto supporto ad alcuni ad alcune direzioni della nostra struttura per avere conforto rispetto alla possibilità di approvare e di prendere in carico alcune professioni piuttosto che altre questo perché non tutto è stato accolto ma quando non è stato accolto la motivazione solida ci è stata portata anche da come dire persone esterne al nostro settore che esperti appunto di materia sono riusciti a dare conforto solo dei numeri per chiudere sapendo che c'è ancora una coda circa del 10% di lavoro da terminare per cui questi numeri chiuderanno con delle come dire con delle sfumature differenti a lavori chiusi sono state prese in considerazione 16 sotto aree professionali 24 settori economici professionali dell'Atlante e che sono stati analizzati appunto nello specifico nelle commissioni tecniche ad oggi ci sono state 14 commissioni tecniche con oltre 300 incontri ecco questo numero è significativo rispetto all'impegno profuso e sono stati presi in considerazione 216 profili i soggetti coinvolti in commissione sono più di 50 enti 120 esperti partecipanti alle commissioni e test e tecniche 18 associazioni datoriali e sindacali inoltre sono stati coinvolti l'istituto di ricerca Ires poi avremo il contributo anche della dottoressa Facuola che entrerà nel merito di alcuni aspetti che abbiamo visto anche in modo un po' sperimentale è stata coinvolta l'università di Torino l'università cattolica di Milano e poi le altre direzioni regionali per i motivi che vi ho detto io chiudo questa presentazione però mi corre l'obbligo di ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno lavorato quindi le assistenza tecnica metodologica rappresentata da CSI e in Tellera le agenzie formative le persone che sono oramai due anni che ci prendiamo per mano io magari non partecipo a tutte le commissioni però so in retroscena perché Assunta Tinelli è sempre molto precisa nel raccontare quello che succede all'interno delle commissioni quando non sono presente e poi dimenticherò sicuramente qualcuno ma tutti coloro che sono anche oggi presenti e ascoltano quello che stiamo dicendo grazie passo adesso la parola alla dottoressa Teresa Valentino che è una nostra come dire coinvolgente collega che infatti ci stupirà con degli effetti speciali devo accendere allora buongiorno grazie grazie Antonella che bella presentazione io mi voglio inserire perché questa mattina sono state ripescate così tante cose a partire dal libro blu che effettivamente lo usiamo ancora oggi perché è vero che il pezzo di carta sarà anche importante però non si capisce come mai che nei traslochi si perde sempre l'attestato quindi per dire che è una parte dei lavori del nostro ufficio quella di recuperare i verbali d'esame fare dichiarazioni sostitutive quindi assolutamente viva i pezzi di carta anche se poi ci stiamo già proiettando verso la digitalizzazione degli attestati una piccola anticipazione per i prossimi convegni allora io vorrei parlarvi oggi di si è parlato di apprendimento di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e attualmente in corso in regione piemonte una misura che possiamo ancora definire sperimentale ma che si spera sarà proprio il trampolino di lancio verso una messa a regime dei servizi di IVC quindi individuazione validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e per farlo voglio ripescare un'altra parola importante che è stata detta questa mattina che è persone quindi chiedo alla regia gentilmente di cominciare dalla fine cioè con qualche testimonianza di persone che hanno partecipato alla nostra misura che è in corso da due anni più o meno e che si chiuderà a dicembre di quest'anno ma solo per poi ripartire alla grande con la nuova programmazione ma ve lo dico dopo grazie Lucia possiamo grazie mi chiamo Restefano classe 1987 quindi ad oggi ho 36 anni e sono stato fortunato a poter usufruire del servizio IVC della regione Piemonte perché ha corretto un paio di cose che nella mia vita sono andate stotte ho dovuto abbandonare gli studi andare a lavorare presto non ho potuto diplomarmi e dopo 20 anni dentro i cantieri di aver accumulato esperienza aver aperto la mia stessa ditta e mi sono ritrovato comunque a non avere nessun pezzo di carta in mano fortunatamente mentre mia moglie era incinta del mio secondo genito ha scoperto di questo progetto IVC ci siamo informati li abbiamo contattati per la prima volta posso dire di aver trovato innanzitutto persone competenti e che avessero voglia realmente di offrire un servizio utile abbiamo identificato quali potevano essere le mie competenze da validare con i docenti esame sostenuto tre giorni praticamente ho preso i 20 anni di esperienza nei cantieri e li ho portati direttamente all'esame questa è stata la soluzione perfetta e veramente devo ringraziare chi ha avuto l'idea chi ha voluto metterla in pratica e chi materialmente mi ha accompagnato durante queste giornate perché finalmente e può sembrare davvero una cosa piccola ma finalmente dopo 20 anni di lavoro ho un pezzo di tarda che dice che so farlo il mio lavoro questo era Stefano quando è entrato dalla porta principale della regione era assolutamente contentissimo di dover fare l'intervista e ha detto posso dirle una cosa finalmente una cosa che veramente mi è servita perché per il resto non mi serve io ho detto va benissimo la teniamo però dobbiamo fare l'intervista cerchiamo è stata una persona è andata avanti così come una macchinetta però l'altra persona che vorrei far sentire sempre in video è l'altro diciamo uno di quelli che sicuramente si è sentito dire ma le aziende sull'IVC non è che sono tanto interessate il datore di lavoro non ha interesse a far qualificare i suoi lavoratori insomma ci sono degli ostacoli da superare comunque in ogni caso noi abbiamo la testimonianza di un datore di lavoro che quando ha sentito parlare di IVC ha detto alla propria dipendente vai a fare il servizio IVC anzi diciamo che il nostro ente che è andato lì perché poi la prova l'abbiamo svolta direttamente sul posto di lavoro quindi Giorgio lo vogliamo vedere perché fa un discorso veramente sembra uscito non so da dove le cose che dice sono fantastiche quindi grazie Lucia sono Giorgio Cesano arrivo dalla Valpellice dal comune di Roserna San Giovanni cinque anni fa abbiamo recuperato un piccolo negozietto è diventato un bel negozio grazie alla collaborazione di una persona che ha dato l'anima anche per questo progetto ha creduto in questo progetto e con me ha fatto crescere questa cosa in questi periodi scorsi ho incontrato una presentante del consorzio e mi ha proposto di certificare questa professionalità devo dire che con molta soddisfazione l'ho accettata e siamo molto molto soddisfatti perché comunque è giusto che ci sia una certificazione dovuto anche all'esperienza e al lavoro che uno dedica sono dei lavori come si può dire sommersi perché non sono non è il medico di turno non è un avvocato è un umile lavoratore che però ha dato l'anima per costruire un percorso per creare comunque un'attività ed è giusto che ci sia questa certificazione che si possa dire io sono certificato e grazie alla regione Piemonte che ha comunque investito su questo argomento se certifichiamo chi lavora per noi vuol dire che certifichiamo le nostre aziende io consiglierei a tutti a tutti gli imprenditori una valutazione di questo tipo perché comunque si va sia a certificare una professionalità ma si va anche a consolidare un'attività grazie a queste professionalità come dicevo l'intervento di questo datore di lavoro è stato veramente fantastico adesso parliamo un po' di questa misura pesco un'altra parola che è radici dico radici perché è vero abbiamo delle forti radici in regione Piemonte si è cominciato con le prime sperimentazioni di validazione delle competenze di apprendimento non formale informale nei primi anni 2000 quindi di fatto dalla DGR 2006 dove già il principio era sancito ci sono state delle piccole sperimentazioni e poi col 2015 siamo riusciti a mettere a sistema la nostra il nostro sistema di certificazione delle competenze maturate in ambiti non formali e informali come lo abbiamo fatto con una sperimentazione coinvolgendo gli operatori e che però è importante che abbiamo quindi definito gli enti titolati per l'erogazione di questi servizi all'interno di questi enti titolati ci sono persone che sono adeguatamente formate direttamente dalla regione gli esperti in tecniche di certificazione e a loro volta gli esperti in tecniche di certificazione possono formare poi i cosiddetti operatori della prima linea gli operatori adeguatamente formati sono quelli allo sportello quelli che aiutano le persone a ricostruire le proprie esperienze le proprie evidenze costituire il famoso dossier del cittadino ora questo era il 2015 va detto che nel 2019 come regione Piemonte abbiamo ricevuto un premio internazionale nell'ambito della biennale sulla validazione delle competenze e lo abbiamo ricevuto proprio in virtù di questa sperimentazione quella del 2015 quindi sulla metodologia utilizzata su questo possiamo parlare del presente cioè dopo quella sperimentazione abbiamo fatto dei tentativi di inserire questi come dire le prime applicazioni dei servizi WC all'interno di direttive che già erano esistenti come il buono servizio al lavoro o come la prima esperienza del 2016 del servizio civile col Ponyog tra l'altro eravamo stati l'unica regione che era riuscita a validare competenze quell'anno e poi così via altre sperimentazioni ma questa volta no? due anni fa è venuta proprio l'idea al settore intero che era verso un servizio universale di IWC cioè volevamo fare il passo definitivo perché è vero che abbiamo fatto andare i servizi in varie situazioni però a quel punto abbiamo fatto ci siamo fermati e abbiamo convocato gli operatori che maggiormente erogavano servizi facendo dei focus di approfondimento per capire ma tra il 2015 e il 2020 che cos'è che si può migliorare per diffondere maggiormente l'utilizzo dei servizi quindi sulla base di questi focus abbiamo poi elaborato questa misura che vuole essere un po' la risposta alle criticità che erano emerse per esempio volevamo una remunerazione più congrua rispetto ai servizi come erano finanziati e ad esempio volevamo aumentare il numero del TAR il numero di persone che potevano aderire a questa misura quindi per esempio nella misura attuale non ci sono target specifici può partecipare chiunque a questa misura occupati disoccupati giovani con esperienza con molta esperienza con poca esperienza non importa è aperta a tutti quanti quindi diciamo che attualmente abbiamo sette raggruppamenti di enti che hanno aderito a questa misura per un totale di 58 enti e 166 sedi presenti su tutto il territorio regionale i servizi vanno stanno andando abbiamo ovviamente accompagnato questa misura con una fortissima campagna istituzionale perché naturalmente le persone non conoscono questo servizio come tutte le cose nuove in realtà proprio Nadia l'ha detto da dottoressa Cordero questa mattina l'ha detto dieci anni sembrano tanti ma non sono molti in realtà quindi se considerate che nel 2015 abbiamo fatto il sistema siamo nel 2024 e siamo in grado di erogare servizi a tutto spiano su tutta la regione su tutte le aree professionali del repertorio direi che stiamo facendo il famoso salto quindi sicuramente ancora c'è da fare la campagna istituzionale va bene ma abbiamo affiancato anche tutta una serie di workshop territoriali dall'anno scorso siamo partiti con due pilota su Saluzzo Alba e Cuneo siamo andati avanti con moltissime altre iniziative sul territorio nel mese di aprile penso ne avremmo fatti almeno 7-8 se non vado errato quindi assolutamente una grande risposta anche dal territorio che risponde che se conosce il servizio poi dopo lo diffonde quindi diciamo che andate a casa e diffondete l'IVC anche voi mi raccomando detto questo noi finiamo a settembre ma siamo già pronti per la nuova programmazione 21-27 perché altro punto importante in regione Piemonte i servizi di validazione delle competenze saranno sono operazione di rilevanza strategica sul nuovo programma regionale 21-27 quindi ci sarà ancora di più da fare sarà ancora più una sfida però voglio recuperare l'ultima parola la condivisione di quello che si è detto perché se tutto questo viene realizzato è perché tutti i giorni ci sono persone all'interno degli enti che credono in questo servizio che spingono questo servizio e soprattutto ci sono e voglio ringraziarli colleghe e colleghi della direzione che ci supportano ad affrontare le criticità che possono manifestarsi perché sperimentare serve sperimentare è bello e ti permette di andare avanti però è durissima fare sperimentazioni è sempre durissima quindi grazie ne approfitto proprio per ringraziare tutti quanti e se ci sono altre informazioni che volete sapere su questo servizio andate su google servizi ivc Piemonte lì è tracciato tutto che cos'è il servizio quali sono i workshop che abbiamo fatto i video le testimonianze e per ulteriori ovviamente informazioni lo sapete Teresa Valentino scrivete scrivete grazie vedete che quando parlavo di effetti speciali c'erano c'erano tutti allora adesso al tavolo chiamiamo Marco Bologna e Simona Cora sono i colleghi del CSI che come assistenza tecnico-metodologica ci supportano in aspetti tecnici e non solo lascio prima la parola a Marco Bologna program manager del CSI che parlerà di metodologie e strumenti a supporto delle commissioni tecniche grazie bene grazie buongiorno a tutti il mio compito questa mattina è un po' introdurvi nel dietro le quinte delle commissioni tecniche ne abbiamo sentito parlare diffusamente nell'arco della mattinata ed effettivamente la commissione tecnica è stato l'ambito in cui l'esito del lavoro che vediamo è stato è stato un po' creato ha preso forma e quindi vi racconterò un po' come abbiamo lavorato nelle commissioni tecniche quali strumenti abbiamo utilizzato per raggiungere gli obiettivi descritti precedentemente e qual è la metodologia qual è la metodologia che abbiamo utilizzato vedremo anche degli esempi concreti discorreremo uno dopo l'altro per vedere proprio come dalla metodologia si è passato alla realtà del prodotto del prodotto finito però prima di fare questo mi piaceva partire da ne ricollocare un po' quello che abbiamo fatto cioè la revisione del repertorio lo strumento del repertorio nell'ambito della normativa nazionale intitolato questa slide nuovo repertorio e apprendimento permanente la parola apprendimento questa mattina l'abbiamo sentita molto spesso e per fare per fare questo collegamento mi ispiro al decreto legislativo 13 del 2013 ma semplicemente citando leggendo i soli primi due articoli ma perché secondo me i primi due articoli ci dicono poi l'importanza anche che questo repertorio che i repertori hanno all'interno dell'apprendimento l'articolo 1 dice la Repubblica nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione formazione lavoro competitività cittadinanza attiva e del welfare promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona quindi da una parte abbiamo l'apprendimento che è trasversale a tutte le politiche pubbliche e dall'altra abbiamo la centralità dell'individuo successivamente l'articolo va avanti e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale civica sociale ed occupazionale queste norme le abbiamo scritte insieme ma rileggendo e ci danno veramente contezza di quello che sta sotto agli strumenti che noi normalmente durante le nostre giornate utilizziamo competenza come risultato dell'apprendimento e apprendimento come processo evolutivo della persona l'articolo 2 poi ci presenta quello che il decreto definirà e quali sono le finalità e le finalità sono quelle di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale professionale acquisito della persona nella sua storia di vita di studio di lavoro abbiamo appena sentito l'intervento di Teresa Valentino rispetto alla possibilità che l'apprendimento avviene in ogni ambito quindi nell'ambito formale ma anche nell'ambito non formale ed informale e fa questo garantendone il riconoscimento la trasparenza e la spendibilità ecco secondo me queste tre parole sono quelle che definiscono il motivo per cui devono esistere i repertori riconoscimento trasparenza e spendibilità il repertorio è uno degli standard minimi di sistema che poi viene ripreso successivamente nei decreti successivi ed è garanzia del riconoscimento della trasparenza e quindi siccome c'è riconoscimento siccome c'è trasparenza c'è anche spendibilità dei titoli che durante l'apprendimento vengono vengono conseguiti chiaramente se si parla di repertori abbiamo visto nei primi interventi non si può non citare l'Atlante del lavoro e mi piace fare questo parallelo come Atlante del lavoro e delle qualificazioni e il repertorio regionale creano un linguaggio comune prima è stato detto lavoriamo con le parole la parola del linguaggio è uscita molto spesso e creare un linguaggio comune effettivamente è ciò che rende più forte e quindi rende più riconoscibile e spendibile i titoli che vengono acquisiti nell'ambito dell'apprendimento quindi linguaggio comune che come regione nel lavoro nel lavoro di attuazione di creazione del repertorio abbiamo preso in particolare dei processi di lavoro dell'Atlante di cui prima abbiamo sentito descrivere un po' nel dettaglio la sua consistenza quindi linguaggio di lavoro anche come garanzia di dispendibilità e linguaggio comune anche creato attraverso la possibilità che tutte le nostre qualificazioni regionali siano legate al repertorio nazionale siano legate all'Atlante del lavoro tanto legate che abbiamo cambiato la nostra classificazione come sapete prima i nostri qualificazioni erano inserite in aree sotto aree che comunque avevano uno spunto nazionale perché non le abbiamo inventate noi le abbiamo prese dal livello nazionale queste classificazioni nel frattempo a livello nazionale si è evoluto siamo arrivati ad un Atlante che è composto da settori professionali processi di lavoro sequenze di processo aree di attività tutto questo è stato per noi materiale utile anche per ridefinire la nostra struttura del repertorio e quindi per utilizzare questa struttura come come cassetti in cui inserire le nostre le nostre qualificazioni ma non solo non solo perché andando a parlare quindi entrando nel merito della metodologia uno dei primi punti che che cito è l'Atlante e le qualificazioni regionali cioè qual è il rapporto come abbiamo utilizzato l'Atlante e come le nostre qualificazioni regionali sono nate nel senso delle commissioni guardando sguardando l'Atlante ma secondo me attraverso attraverso quattro quattro elementi la prima abbiamo guardato all'Atlante per cogliere le necessità di aggiornamenti e di profili e per meglio presidiare i risultati attesi l'Atlante ci descrive l'Atlante del lavoro ci descrive i processi di lavoro che è un po' un linguaggio forse più comune rispetto al linguaggio delle competenze che in questa sala probabilmente molti sono consapevoli me ne utilizzo ma vi assicuro che c'è fuori dai nostri ambiti nessuno si racconta per competenze tutti si raccontano per che cosa faccio durante il mio lavoro e quindi parlare di processi di lavoro e parlare di competenze e metterle insieme è sicuramente un grosso aiuto anche per andare a creare poi gli strumenti che ci servono per l'apprendimento necessario ragionamento dei profili per meglio presidiare i risultati attesi una sorta di confronto abbiamo utilizzato il repertorio abbiamo utilizzato le ADA abbiamo utilizzato gli strumenti di repertorio nazionale per fare per vedere dove c'erano delle scoperture dove i nostri profili non coprivano le ADA insomma abbiamo utilizzato prima che esistesse il tasto confronta che prima è stato citato nella 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 relazione di INAP e poi il repertorio e le qualificazioni e il repertorio la parte del repertorio che comprende le qualificazioni regionali ci è stato molto d'aiuto perché in quel punto si condensano tutti i repertori delle regioni ed è una grandissima opportunità poter avere in un singolo in un singolo punto raccolti tutti i repertori perché sono tutti i repertori che creano che creano questo patrimonio comune e da lì può nascere un confronto che è molto più agevolato rispetto a andare regione per regione a chiedere a vedere a interrogare i singoli repertori anche perché i repertori non parlano più un linguaggio singolo ma sono tutti accomunati da una classificazione che è data a livello nazionale e ultimo punto l'utilizzo di risultati attesi come input per la progettazione delle competenze a supporto per la focalizzazione di obiettivi di apprendimento rispetto ai risultati attesi cosa vuol dire vuol dire che magari qualche nostra qualificazione messa dentro questo sistema e confrontata con i risultati attesi che doveva in qualche modo ottenere non era non era così corrispondente all'interno delle commissioni si è ragionato di come renderla più di come renderla più corrispondente di come fare che in quella qualificazione fossero contenuti gli elementi di competenze abilità conoscenze che meglio servissero che meglio servivano per andare a raggiungere il risultato atteso descritto nell'Atlante altri strumenti metodologici che abbiamo utilizzato è stato citato precedentemente le competenze autoconsistenti e cosa vuol dire autoconsistenti vuol dire competenze che in qualche modo ci consentissero di almeno raggiungere un elemento un risultato atteso un elemento ben definito e queste competenze autoconsistenti sono utili sia nei servizi di identificazione e validazione delle competenze ma anche nel andare sempre più a supportare una formazione flessibile e una formazione che oltre ad essere flessibile è anche un'alternanza sempre più spesso tra aula e training on the job ulteriore elemento l'aggiornamento dei profili dei profili secondo una logica green e digital e questo è un elemento trasversale che ha permeato le commissioni nel tentativo di porre all'interno dei profili elementi di questo tipo così come il tema delle soft skills è un tema molto ampio tuttavia a livello di commissioni tecniche ci si è interrogati non tanto come creare dei profili relativi alle soft skills cosa che forse esula un po' dai compiti della commissione tecnica ma quanto come rendere possibile che alcuni dei profili che meglio si configurano per questo inserimento potessero ricevere delle abilità delle conoscenze e delle competenze talvolta che parlassero il tema delle soft skills e poi un altro grande supporto metodologico è stato dato alle commissioni è un supporto metodologico relativo all'analisi del settore di riferimento e sull'analisi del settore di riferimento magari spendiamo qualche parola perché come chi ha presieduto chi ha partecipato alle commissioni sa è stato uno dei punti di aiuto rispetto al guardare al lavoro che si stava facendo le commissioni tecniche hanno parlato del linguaggio dei settori economici professionali dell'Atlante le analisi che sono state portate sono state declinate su quei settori economici professionali non è banale perché voglia ricondurre analisi che arrivano da diversi ambiti al settore di riferimento queste analisi sono state analisi sia qualitative e sia quantitative che sono state fornite in input alla commissione proprio per aiutare la commissione per aiutare i commissari a ragionare su quelli che erano i fabbisogni del mercato del lavoro su quelli che erano le professioni più più richieste ma non solo le professioni le competenze più richieste e quindi ci siamo avvalsi di rassegna e di rapporti effettuati da enti enti di settore piuttosto che enti nazionali ci siamo avvalsi di annunci di analisi di annunci di lavoro online questo è un elemento interessante perché un conto è guardare le comunicazioni obbligatorie guardare il mercato del lavoro come si muove un conto è andare a vedere come nel mondo comune le competenze vengono richieste e non parlano il nostro linguaggio parlano un altro linguaggio ma è comunque opportuno capire nel trend ed è comunque utile ricondurre questo trend ad un ambito che noi conosciamo che è il nostro settore di riferimento poi ho citato le comunicazioni obbligatorie che rimangono comunque un utile strumento per tradurre dati dati amministrativi in visione anche di settore e poi non ultimo cito l'analisi del repertorio delle qualificazioni di cui ho già parlato e i percorsi formativi svolti in regione Piemonte in ogni commissione ci si è interrogata alla luce di una storia che abbiamo visto essere molto molto datata quali sono stati i profili più utilizzati all'interno delle politiche del lavoro all'interno della progettazione dei percorsi formativi per capire anche come adattarli e come renderli più utili e più performanti rispetto alle sfide che ci erano date fasi del lavoro semplicemente per ripercorrere come viene fatta una commissione tecnica e come abbiamo lavorato beh innanzitutto gli incontri sono stati tanti e lo vedremo ma un incontro è stato dedicato sicuramente a introdurre gli obiettivi e a creare una metodologia a descrivere la metodologia che anche adesso avevo descritto due altre fasi hanno riguardato la condivisione degli elementi in carico e la raccolta dei dati sui percorsi erogati dagli enti titolati e l'analisi dei processi di lavoro del settore e la mappatura dei fabbisogni anche attraverso analisi quantitative e qualitative del mercato del lavoro cioè tutto ciò che vi ho raccontato fino adesso si è condensato in 4 2 3 4 incontri di commissione tutto il resto poi è stato il lavoro tutto il resto è stato il lavoro di aggiornamento è stato il lavoro di progettazione dei profili e delle competenze giusto per dare un'idea di cos'è questo lavoro questo è il cronoprogramma che è ancora in svolgimento vedete che ci sono ben 15 commissioni tecniche che hanno lavorato vedete che sono un po' scaglionate durante il triennio questo anche per rendere sostenibile il lavoro delle commissioni il lavoro dell'assenza tecnica che quelle commissioni doveva seguire vedete anche che gli elementi lavorati sono in numero variabile che non sono tendenzialmente che non sono necessariamente correlate alla lunghezza della durata della commissione questo perché dentro la commissione il dibattito è aperto e quindi anche commissioni con pochi elementi possono avere delle durate maggiori giusto per fare un esempio e scendere un po' più nel dettaglio di quelle linee verdi che abbiamo visto l'esempio della commissione del SEP stampa editoria è una commissione che ha prodotto diversi elementi aggiornati quattro elementi aggiornati tre elementi creati ex novo e tre elementi che sono stati resi obsoleti dopo analisi effettuate all'interno della commissione si è trovata quattordici volte nell'arco di cinque mesi con una composizione che ha visto quattro rappresentanti dell'associazione degli enti formativi e due rappresentanti delle parti sociali datoriali che insieme rappresentano un po' la parte della formazione e la parte del territorio e del mondo del lavoro ora per chiudere vi faccio una carrellata di sei esempi cioè quello che abbiamo visto prima la metodologia che abbiamo visto prima come si è declinata nel lavoro nel lavoro delle commissioni che cosa abbiamo prodotto che cosa è stato prodotto prendiamo ad esempio l'utilizzo della santa del lavoro il rimando all'ADA per definire il profilo ecco il tecnico in user experience design che è una specializzazione l'unica F5 è proprio un esempio lampante di questo se noi guardiamo le competenze che sono state definite all'interno della commissione e i risultati attesi che sono presenti all'interno dell'Atlanta del lavoro troviamo poi una corrispondenza uno a uno che cosa vuol dire questo vuol dire che lo spunto che è stato dato è stato recepito ed è stato in qualche modo reso evidente nel lavoro della commissione un altro esempio altri due esempi green e sostenibilità ambientale come inserire elementi delle tematiche come contestualizzare le tematiche relative al green e alla sostenibilità ambientale attraverso i profili beh le commissioni hanno seguito due filoni un filone è quello rappresentato dalla qualifica di operatori di segreteria è quello di inserire all'interno delle abilità un elemento che è l'elemento applicare criteri di selezione ai fornitori e servizi anche nel rispetto della sostenibilità ambientale un elemento che guardasse a questa tematica uno potrebbe dire ma cosa c'entra l'operatore di segreteria con le tematiche ambientali beh nella selezione dei fornitori attenti alla sostenibilità ambientale è uno degli elementi che può portare anche a ragionare su queste tematiche piuttosto che invece profili prettamente nati per essere per essere di sostenibilità di sostenibilità ambientale quindi tecnico di progettazione in redi di eco design ha proprio la sostenibilità ambientale come farlo nella costruzione del profilo stessa logica per competenze digitali e soft skills questo è il tecnico di budget e controllo di gestione un eco f5 una specializzazione questo profilo ha due competenze professionalizzanti proprio relative alla gestione del budget alla gestione del controllo di gestione e una terza una terza competenza che invece racchiude la parte relativa al contesto relazionale in cui il tecnico deve muoversi e il sistema tecnologico di riferimento un altro esempio sempre in questo in questa direzione il tecnico della creazione della creazione grafica una specializzazione in cui è stata inserita all'interno dell'abilità minima un'abilità che vede l'ideazione grafica revisionata con specifiche abilità trasversali in ambito di comunicazione e presentazioni efficaci per la gestione dei progetti quindi anche qui se si vede le vecchie edizioni l'edizione del 2013 e l'edizione del 2023 si vede da una parte come la competenza è stata ampliata c'è stato un ampliamento dell'ambito della competenza e come all'interno di questa competenza sono stati inseriti elementi relativi a soft skills relativi alle soft skills un ulteriore esempio di profili nati a partire dall'analisi degli annunci online qui si vede il risultato uno dei risultati dell'analisi che sono state proposte in commissione che appunto raggruppa per profili professionali gli annunci che sono stati trovati all'interno del web e da questa evidenza di necessità di richieste di competenze relative ad analisti e progettisti di software sono nati i due profili che vedete tecnico per lo sviluppo di interfaccia web e tecnico dello sviluppo di progettazione di programmi informatici un ultimo esempio per citare rapporti più qualitativi strumenti più qualitativi per la creazione di profili è questo esempio del tecnico della produzione di arredi articoli in legno è un EQF4 questo è stato introdotto nel repertorio grazie alla consultazione all'interno della commissione di questo rapporto del CENFIM sull'impatto della duplice transizione sull'industria del mio arredo nell'Unione Europea proprio attraverso la lettura di questo rapporto è stata presa consapevolezza della necessità di un profilo che in qualche modo parlasse di transizione digitale parlasse di possibilità di introdurre nuove competenze anche in funzione della conduzione di macchinare controllo numerico non a livello generico ma proprio all'interno della produzione di arredi e di mobili e dopo questa veloce carrellata io non posso che chiudere dietro le quinte e aprire il sipario rispetto a quello che è il contenitore del nuovo repertorio e quindi passo la parola alla collega Simona Cora che ci guiderà una volta aperto il sipario nella navigazione di questo strumento grazie grazie Marco grazie ok intanto buongiorno e benvenuti il mio obiettivo è proprio quello di presentarvi il nuovo portale il nuovo portale del repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di regione Piemonte è intanto un sito ad accesso libero raggiungibile dal catalogo dei servizi regionali ed è rivolto principalmente agli operatori del settore ma poi anche ai cittadini alla PA alle imprese a tutti quelli che vogliono navigarlo è lo strumento di consultazione sia di figure nazionali che di profili e di obiettivi regionali è il luogo in cui questi elementi vengono espressi attraverso un format specifico di descrittori e lo abbiamo visto di sistemi di classificazioni e vengono rappresentati in competenze abilità e conoscenze il repertorio contiene inoltre gli standard di erogazione di cui si è parlato anche precedentemente il repertorio è uno strumento dinamico i cui contenuti sono aggiornabili sulla base dei fabbisogni professionali e formativi del contesto produttivo regionale supporta la progettazione dell'offerta formativa e l'erogazione dei servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze garantisce inoltre la trasparenza del processo di attestazione pubblica delle competenze fatta questa premessa vi racconto invece quali sono stati gli obiettivi principali di revisione di rifacimento del nuovo repertorio il primo obiettivo è stato quello di rendere il sito precedentemente disponibile più facilmente utilizzabile più comunicativo più facilmente aggiornabile e questo è stato fatto abbiamo provato a farlo attraverso una comunicazione chiara e immediata dei contenuti e della loro organizzazione e attraverso diversi strumenti di ricerca e di visualizzazione delle informazioni il secondo obiettivo è stato quello di parlare il linguaggio condiviso a livello nazionale ne abbiamo parlato sin dall'inizio il vecchio sistema precedente sistema di classificazione di aree sotto aree professionali che comunque non abbiamo perso all'interno del sistema però lascia più spazio invece al nuovo sistema di classificazioni dei SEP e delle ADA questo per arrivare a parlare questo linguaggio nazionale si è definito l'avvio di una collaborazione e di una cooperazione applicativa Rita Porcelli Stefania Camassa hanno parlato di interoperabilità ed è proprio quello tra il portale regionale e l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni il terzo obiettivo è stato quello di coinvolgere sin da subito quindi sin dalle fasi iniziali di ripensamento del precedente sito gli attori interessati attraverso un processo partecipativo di definizione delle necessità e di coprogettazione del servizio siamo quindi partiti dalla raccolta dei requisiti per arrivare alla condivisione dei prototipi sviluppi incrementali del portale fino al riscontro finale attraverso una serie di test utenti che abbiamo realizzato proprio con dei professionisti del settore che in precedenza utilizzavano il vecchio sito e adesso nel futuro utilizzeranno in modo operativo il nuovo portale passiamo quindi alla navigazione del portale allora questa è la home page si presenta in questo modo il primo elemento è il banner che è disponibile in tutte le pagine consente di recuperare sempre le principali risorse del sito sotto il disclaim del portale c'è lo scopro di più lo scopro di più è una pagina di vademecum con alcune informazioni di base per orientare un primo approccio al portale ai contenuti e alle modalità per navigarlo quindi se qualcuno atterra sul portale e non ne sa proprio nulla può leggere questa pagina per farsi un'idea di quali sono i contenuti mi preme anche sottolineare che per cercare di facilitare al massimo il passaggio tra il vecchio e il nuovo portale fino a circa la metà di luglio sarà comunque disponibile accedere ai contenuti aggiornati del repertorio ma nella precedente modalità di visualizzazione se qualcuno sente ancora la necessità di agganciarsi al vecchio alla vecchia visualizzazione tornando sulla home è possibile visionare una ricerca rapida sui contenuti da repertorio e poi la navigazione per settore economico professionale questo è il primo grande aggancio che è stato fatto con l'Atlante del lavoro delle qualificazioni a livello nazionale se una persona accede al sito e ha già idea di quello che sta cercando può effettuare effettivamente una ricerca immediata per settore economico professionale e atterrare già al sottoinsieme di informazioni che possono interessarvi continuando a scorrere la pagina il repertorio in numero non è nient'altro che una sintesi numerica sempre aggiornata dei contenuti del repertorio la dottoressa Cordera parlava circa 2000 competenze e siamo a 2823 giusto per dare un elemento di riferimento e poi ci sono le novità le novità si distinguono in comunicazione e aggiornamenti le comunicazioni sono informazioni di interesse pubblico che la regione Piemonte intende condividere con i propri utenti quindi può essere l'informazione relativa alla pubblicazione di una nuova normativa oppure eventi materiali gli aggiornamenti invece fanno più riferimento a quella che è la movimentazione dei contenuti del repertorio e quindi useremo la sezione aggiornamenti ogni qual volta si vorrà indicare che è stato aggiornato un nuovo profilo un suo standard di erogazione oppure che è stato reso obsoleto un profilo come abbiamo visto il repertorio è in continua evoluzione e movimentazione quindi questo sarà il posto dove in modo abbastanza immediato si potrà vedere sin da subito quali sono le novità disposizione sul portale l'ultima sezione è la sezione materiali la sezione materiali è una sezione in continuo divenire in questo momento contiene delle estrazioni che sono delle estrazioni preconfezionate di contenuti del repertorio queste estrazioni sono aggiornate real time quindi sono sempre aggiornate rispetto ai contenuti del repertorio e sono disponibili e scaricabili in formato Excel in questo momento abbiamo individuato queste estrazioni in un futuro potranno aumentare o variare c'è poi una sezione normativa con i principali riferimenti normativi e una sezione di documento dove verranno pubblicati o agganciati e linkati tutti i documenti di interesse il cuore del portale è però il motore di ricerca il motore di ricerca si presenta in questo modo sulla parte sinistra ci sono tutte le ricerche e filtri di ricerca sulla parte centrale una sezione dedicata ai filtri applicati e poi ai risultati che vengono trovati la prima ricerca è una ricerca libera è una ricerca che consente di spazzolare proprio i contenuti del repertorio rispetto ad uno più parole chiave la ricerca libera agisce su questi campi la denominazione profilo indirizzo le competenze le abilità e le conoscenze nella parte sottostante invece si possono vedere i settori economici professionali la tipologia dei profili la certificazione quindi la certificazione in uscita rispetto ai percorsi formativi realizzati il monteore e in questo caso entriamo nel mondo degli standard di erogazione i percorsi standard quindi la presenza o meno del fatto che ci sia un percorso standard associato al profilo è stata sin da subito data molta evidenza alla formazione quindi alla possibilità di visualizzare una formazione normata o non normata e quindi di selezionarla sin da subito se il profilo e l'indirizzo è regionale o nazionale e per finire il livello EQF nella parte centrale è possibile vedere i filtri quindi i filtri di ricerca agiscono in modo per combinazioni multiple e progressive dei filtri in modo da individuare per passi successivi ed incrementali i risultati ricercati i filtri che si possono applicare li abbiamo visti e invece i risultati vengono presentati attraverso delle cards la card è un elemento che mi permette di andare ad individuare in modo immediato le informazioni relative al profilo e capire se il profilo è di interesse oppure oppure no proviamo a fare una ricerca per esempio selezionando la parola selezionando i profili professionali selezionando per esempio la parola verde posso andare a vedere per esempio la card relativa all'operatore del verde e questo mi permette di visualizzare il primo esempio che volevo presentarvi di profilo intanto l'operatore la card che cosa fa vedere fa vedere in primis il logo se si tratta di un profilo regionale o nazionale permette di visualizzare le QF quindi le QF3 il tipo alcune informazioni per esempio la formazione si tratta di una formazione normata la tipologia e l'edizione e poi mi visualizza da subito che associato a questo operatore del verde sono presenti due indirizzi i due indirizzi li trovo nella pagina nelle cards sottostanti quindi posso vedere che accanto all'operatore del verde visualizzo le aree verdi e giardini e visualizzo l'indirizzo di orti e frutteti come posso navigare su questi contenuti posso muovermi diciamo indifferentemente partendo dal profilo oppure passando direttamente dagli indirizzi io parto dal profilo quindi mi concentro su quello che è l'operatore del verde e andiamo ad analizzare qual è la struttura diciamo del profilo come viene presentato il profilo allora c'è una prima sezione dedicata alle informazioni generali che sono specifiche del profilo all'interno del profilo si vede da subito che il profilo è stato associato al SEP agricoltura silvicoltura e pesca ma ha visualizzato e anche stato classificato secondo l'area professionale della sottoarea professionale che sono la classificazione precedente che veniva utilizzato quindi questa informazione non viene persa ma viene mantenuta all'interno del portale nella seconda diciamo sezione ci sono c'è il riferimento le ADA quindi la correlazione tra le ADA e il mio profilo di riferimento questo è il secondo riferimento molto importante di correlazione con l'Atlante nazionale successivamente posso vedere le competenze le competenze ovviamente espresse in abilità e conoscenze la correlazione le professioni in UPISTAT e le attività economiche di riferimento e come ultima informazione vedo gli indirizzi che fanno riferimento a questo profilo quindi posso accedere per esempio all'indirizzo orti e frutteti la struttura è esattamente analoga a quella del profilo posso da questa pagina se di mio interesse anche visualizzare per esempio le informazioni relative al profilo quindi posso navigare tra profilo e indirizzo andando a ricercare le informazioni che mi sono di più immediato interesse posso anche stampare le informazioni relativi ai profili e indirizzi e a seconda di dove mi trovo stamperò le informazioni del profilo del profilo più indirizzo oppure solo dell'indirizzo torniamo al filtro e rimuoviamo tutti i filtri per fare un secondo esempio che invece consente di visualizzare la presenza di standard di erogazioni associate al profilo il mio obiettivo è quello di cercare il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo però non ricordo perfettamente diciamo la denominazione del profilo vado un po' per tentativi quindi so che fa parte del SEP servizi turistici so che è una formazione per esempio normata in questo caso trovo nove risultati non sono ancora contenta e scusate correggo inserisco la parola viaggio trovo due risultati uno di questi è proprio il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sin dalla card posso vedere che associato a questo profilo a questa figura ci sono due standard di erogazione una scheda attività destinataria e un percorso standard con il mostra di più posso vedere alcune informazioni minime associate agli standard di erogazioni per esempio il titolo la durata la certificazione ma da questa sezione posso fare anche una cosa in più posso andare a navigare direttamente online i contenuti per esempio del mio percorso standard questa è stata una richiesta molto forte che ci è stata posta nel tavolo di lavoro del quando siamo partiti con la raccolta dei requisiti ovvero di poter accedere agli standard di erogazioni non tramite esclusivamente stampe pdf ma anche navigando direttamente i contenuti e quindi vi propongo di vedere per esempio la sezione dati generali dove ci sono tutte le informazioni relative al percorso standard oppure si può aprire per esempio la sezione figure profili obiettivi dove si può vedere qual è ovviamente il profilo di riferimento ma anche la copertura del percorso standard rispetto al profilo ho ancora la struttura del percorso in questo caso ho una tabella di sintesi di accesso alle informazioni ma a mia volta posso poi andare a navigare all'interno dell'unità formative per vedere se effettivamente il percorso standard è l'oggetto di mio interesse è quello che io voglio adottare per fare poi il mio lavoro per realizzare il mio lavoro torno indietro rimuovo i filtri come vedete i risultati si aggiornano sempre in tempo reale e vi faccio vedere un terzo esempio il terzo esempio ci consente di approfondire il legame e i principi di cooperazione applicativa con l'Atlante delle qualificazioni nazionali se ne è già parlato ampiamente però voglio farvi vedere proprio qual è il risultato di tutto quello che hanno anche raccontato la dottoressa Porcelli e la dottoressa Camassa allora vado su in questo caso vado su un profilo in modo diretto vado sul progettista moda o per meglio dire il tecnico stilista progettista moda su questo profilo è stato fatto un doppio lavoro il profilo è stato associato alle ADA di riferimento ma è stato fatto anche tutto il lavoro di correlazione delle competenze alle attività e risultati attesi dell'ADA e lo possiamo vedere prima vi ho fatto scorrendo vi ho fatto vedere una competenza in cui si attivava solo diciamo il tab delle abilità conoscenze in questo caso abbiamo una funzione in più ovvero la relazione con le ADA e che cosa mi dice questa relazione con le ADA che è la competenza una del profilo che sto analizzando copre tutte le attività relative al risultato RA1 mentre per esempio questa competenza non copre le attività relative all'RA2 e all'RA3 questa visualizzazione è importante ed è dal nostro punto di vista facilmente usabile anche perché come diceva Marco prima spesso si parte dal processo di lavoro dal presidio del lavoro soprattutto anche per esempio nell'individuazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze avere questo legame ci permette e facilita il lavoro di partire dal lavoro che le persone fanno per andare anche a individuare poi le competenze di riferimento e le competenze che si possono riconoscere alla persona e quindi è un lavoro che deve essere visto anche dal basso verso l'alto a risalire e poi verso il riconoscimento proprio delle competenze questo lavoro che viene fatto sulle competenze abilità e conoscenza e questa copertura delle attività e dei risultati attesi si manifesta diciamo anche a livello poi di profilo in questo caso abbiamo un profilo particolarmente fortunato dove le tre competenze coprono completamente i risultati attesi R1 R2 R3 riferite all'ADA 05 02 01 non è detto che ci sia sempre questa situazione ottimale questo è una situazione ottimale però il portale riporterà sarà in grado attraverso una serie di simboli e di leggende di darvi anche l'idea della copertura totale parziale o meno del profilo e delle relative competenze rispetto proprio alle alle attività e risultati attesi quello che voglio specificare è che questo è un lavoro in divenire che verrà progressivamente portato alla luce nel corso dell'autunno 2024 perché prima dobbiamo fare un grosso lavoro che è quello di conferimento di tutto il nostro repertorio revisionato all'Atlante nazionale quindi in primo luogo prenderemo i nostri profili revisionati e li sposteremo sull'Atlante nazionale sull'Atlante nazionale faremo il lavoro di correlazione e di copertura dei profili delle competenze alle ADA e successivamente riporteremo questi risultati sul nostro repertorio qual è il valore aggiunto di tutto quello che vi è stato raccontato questa mattina che in questo momento grazie alla grande disponibilità di INAP nelle persone di Rita Porcelli di Stefania Camassa siamo riusciti a costruire una interoperabilità applicativa quindi un meccanismo automatico che ci consentirà di effettuare il lavoro sull'Atlante nazionale e poi di vedercelo riversato scusate come ricchezza aggiuntiva sul nostro portale regionale e questo contribuirà a dare una visione più completa di quello che è il nostro profilo regionale il nostro elemento regionale pur mantenendo separati diciamo le finalità e gli obiettivi dei due portali l'Atlante nazionale e il nostro repertorio regionale faccio un ultimo esempio e in questo caso vi vorrei fare vedere un obiettivo un obiettivo professionale scusate ho sbagliato vado sugli obiettivi professionali e vado sul vado ad individuare un obiettivo specifico che è il food and beverage questo perché mi premeva farvelo vedere perché il portale non ha esclusivamente elementi complessi come per esempio il profilo le figure a livello nazionale tutta la parte della professione normata ma anche degli oggetti più granulari più specifici per esempio questo è uno di quelli che è stato rivisto nell'edizione del 2023 che può permettere di individuare e di mettere in rilievo degli elementi peculiari magari di una certa professionalità specifici di una certa professionalità e che può essere utilizzato sia come elemento di valorizzazione su un percorso formativo che si vuole costruire ma anche nell'individuazione proprio dei servizi di individuazione e validazione delle competenze andando a definire elementi più granulari più particolari che però possono contribuire ad arricchire la descrizione di quello che si sta facendo io torno sulla home page con alcune considerazioni conclusive sul portale allora il primo è che il sito è un sito responsive ovvero si adatta automaticamente ai vari dispositivi alle relative modalità di visualizzazione quindi può essere dimensionato in funzione delle vostre esigenze è un sito accessibile ai sensi della normativa vigente ed ha avviato un principio importante di interoperabilità e di cooperazione applicativa con il livello nazionale quali possono essere gli scenari futuri alcuni ve li ho già raccontati allora intanto abbiamo un lavoro che ci aspetta che è quello di conferimento di tutti i nostri profili revisionati a livello nazionale e di correlazione sul livello nazionale dei nostri profili come abbiamo raccontato adesso ci sarà ci auspichiamo anche un possibile ampliamento della cooperazione applicativa verso tra il portale nazionale e il repertorio in questo momento siamo noi che andiamo a recuperare delle informazioni dal portale nazionale in un futuro magari potremmo essere anche noi a conferire in automatico modo automatizzato delle informazioni presenti sul nostro portale all'Atlante nazionale con Rita e Stefania ne stiamo già parlando ci stiamo già ragionando l'altro elemento ma non ultimo per importanza è che ovviamente ci possono ci potranno essere dei possibili sviluppi evolutivi sia a fronte delle indicazioni dell'amministrazione ma anche a fronte del riscontro e dell'utilizzo degli operatori e quindi il tavolo tematico che noi abbiamo aperto insomma e che ci ha portato fino qui probabilmente voglio sperare ci darà anche dei riscontri al contrario e magari quindi questo portale evolverà ulteriormente io ho chiuso e volevo fare un ringraziamento particolare a tutte le persone che hanno lavorato sia diciamo alla revisione dei contenuti e sia anche alla realizzazione del portale perché è un lavoro che ci ha richiesto due anni è un lavoro per noi molto importante è un piacere essere qui a presentarlo e quindi grazie a tutti grazie Simona io chiedo un cambio di tavolo e davvero grazie anche per il lavoro che avete svolto di raccordo e di presentazione ricordando che anche per il contenitore abbiamo come dire coinvolto delle persone che hanno fatto dei test a questi test sono stati dati come dire delle restituzioni e abbiamo fatto tesoro di tutte le informazioni che ci sono state fornite chiamo adesso al tavolo la dottoressa Maria Chiara Pacuola che è una ricercatrice di Ires ma non solo e che parlerà appunto di un aspetto che è stato che è stato raccontato in parte ad oggi e che riguarda proprio la didattica professionale cioè il confronto tra quello che si sa fare e poi la descrizione teorica di questa esperienza successivamente daremo la parola a Giampiero Uslenghi a Sebastiano Spine e a Giampiero Uslenghi che sono i rappresentanti di associazioni di agenzie formative che hanno contribuito in modo molto come dire cospicuo alla revisione del repertorio che hanno inviato parecchie persone a lavorare nei tavoli delle commissioni tecniche partiamo prima dalla dottoressa Pacuola che oltre a essere ricercatrice di Ires è anche qualcos'altro e se vuoi raccontalo anche per raccontare un po' la tua esperienza rispetto a questa rilevazione questa modalità anche sperimentale che noi abbiamo utilizzato per alcune figure per andare proprio ad individuare alcune alcune competenze rilevate sul campo e che non solo è stata una sperimentazione rispetto alla modalità utilizzata ma sperimentale è stata anche la proposta di questi obiettivi che sono stati lavorati in questo modo prego Chiara mi sentite? si si sente grazie buongiorno a tutte e a tutti parto con la mia presentazione dopodiché nel percorso magari vi darò qualche altra informazione rispetto al mio campo di ricerca e anche a dove opero sono consulente in Ires da un paio d'anni e diciamo che il motivo per cui io e la dirigente ci siamo trovate è stato proprio per la condivisione di questa metodologia di questo approccio di ricerca che è la didattica professionale e su cui Ires sta facendo un approfondimento anche grazie ai progetti che stiamo conducendo con Regione Piemonte la domanda di Regione Piemonte all'inizio di questa chiamiamola proprio un'impresa collettiva perché ha visto la mobilizzazione di un intero territorio era quella di contribuire ad aggiornare il repertorio delle qualificazioni degli standard formativi di Regione in che modo partecipando al processo di concertazione delle commissioni tecniche e quindi con una prima fase proprio di osservazione partecipante all'interno di alcune commissioni e poi coprogettando insieme agli enti di formazione i repertori di competenze proprio di quelle figure professionali che attualmente stanno vivendo delle trasformazioni delle situazioni di lavoro in cui si ritrovano ad operare e la parola situazioni di lavoro è una parola che è una parola che ritornerà durante tutta la presentazione quindi le riflessioni che ci siamo fatti per questo tipo di collaborazione era proprio come supportare il lavoro delle commissioni tecniche e abbiamo pensato di sperimentare un framework teorico e metodologico per l'analisi dei fabbisogni di competenze che è la didattica professionale che ha come focus di analisi la competenza agita nel lavoro in una prospettiva formativa attenzionando le nuove situazioni di lavoro perché quando cambiano e si modificano le situazioni di lavoro viene chiesto alla persona nel suo ruolo di modificare il modo di agire di ragionare e di organizzare la sua attività un'altra domanda che ci siamo fatte è come integrare e integrare questa questo approccio con gli strumenti già esistenti a livello nazionale e regionale sull'analisi dei fabbisogni e l'idea era quella di supportare i membri appunto con una coprogettazione nel compito di analizzare il lavoro nel senso che le commissioni formate prevalentemente da operatori della formazione e da progettisti della formazione si ritrovano già nel loro compito a dover fare l'analisi dei fabbisogni ma una granularità di descrizione di analisi del lavoro che è diversa mentre a livello proprio di commissione questa granularità cambia questa polarità tra contestualizzazione e decontestualizzazione cambia e l'uso cambia nel senso che dalla progettazione formativa si passa al qualification design ecco allora che ehm la eh il lavoro fatto insieme è un lavoro anche in questo caso di collaborazione di un paio d'anni da aprile del duemila e ventidue eh dove l'osservazione partecipante nella commissione tecnica agroalimentare ha portato poi a individuare con alcuni enti di formazione in particolare con il CNOS FAP e poi con l'ITS agroalimentare per il Piemonte due situazioni di lavoro che erano ehm identificate come rilevanti per la formazione la preparazione e il confezionamento sostenibile per l'asporto il food delivery e il meal kit delivery che è praticamente eh quest'ultima parte è il cofanetto diciamo con tutti gli ingredienti già pesati per poter ricrearsi l'esperienza di prepararsi un cibo a casa come al ristorante e poi la pasticceria artigianale per esigenze alimentari specifiche quindi la celiachia eh il vegan senza lattosi eccetera che sono effettivamente eh eh due situazioni nuove che gli operatori si ritrovano sempre di più a livello eh lavorativo ad affrontare in particolare io mi concentrerò proprio su quella eh per eh la sport il food delivery e il meal kit delivery e per mostrarvi proprio tutto il processo di analisi che abbiamo compiuto e che ha visto il coinvolgimento di diverse realtà eh organizzative aziendali per lo più piccoline quindi proprio piccole imprese del territorio nella partecipazione nella conduzione della raccolta dei dati eh attraverso appunto eh dell'analisi del lavoro nei due nel nel cantiere con interviste osservazioni videoriprese degli attori eh autoconfronto sulla videoripresa eh ma che ha anche visto proprio gli operatori eh della della commissione in particolare la referente per le aziende dell'ITS agroalimentare collaborare nella videoripresa e nella eh nell'analisi nell'analisi sul terreno quindi da una prima fase di individuazione sull'Atlante del lavoro e e quindi anche di primo raccordo fino ad arrivare all'approfondimento delle schede caso e della bibliografia di riferimento c'è stata l'analisi la prima raccolta dei dati che serviva per individuare le variabili rilevanti delle situazioni di lavoro e come queste variabili impattavano sulla dimensione cognitiva dell'azione competente sono state poi eh c'è stato poi un raccordo con le qualifiche del settore presente nel repertorio regionale confrontandoci anche con altre regioni e poi insieme al gruppo di lavoro che ha partecipato a questo a questa analisi abbiamo coanalizzato i risultati i dati per costruire il report metodologico che è eh sul sito di Res Piemonte una piccolo riferimento teorico che però ci serve per capire come la metodologia ha funzionato ehm quindi cosa significa analizzare la competenza in situazioni di lavoro significa considerare le variabili della situazione e quindi guardare quali sono gli oggetti del lavoro quali sono gli strumenti di lavoro prescritti quali sono le modalità operative richieste quali sono le procedure da seguire ma anche guardare la complessità del contesto e quindi le condizioni fisiche in cui le persone e i ruoli si ritrovano a lavorare le relazioni i ruoli sociali e il modo in cui sono organizzati questi ruoli all'interno dell'organizzazione del lavoro significa anche cercare di capire qual è il livello di autonomia e di responsabilità richieste questa è la prima tappa questo è il primo momento perché il momento successivo è quello di guardare l'operatore la persona al lavoro e quindi di porsi cinque domande come prende le informazioni che ragionamenti fa quali regole segue per agire quali risultati prevede e come regola l'azione man mano nel suo evolversi in funzione della situazione degli elementi della situazione che cambiano in particolare le prime due domande sono cruciali perché ogni volta che la persona si mette nella situazione di lavoro fa un diagnostico e il diagnostico è quella parte dell'azione professionale che è più ricca di competenze perché deve scegliere quali sono gli elementi rilevanti per poter attivare l'azione significativa tra l'altro questo quadro che viene dalla diciamo è francofono proprio quello della didattica professionale e del gruppo di ricerca con cui lavoro a Digione in realtà ha delle origini italiane piccola piccola parentesi e tra l'altro torinesi nel senso che le fonti italiane di analisi del lavoro sono state sperimentate a Torino negli anni settanta nelle ricerche in Fiat sulla trasmissione delle competenze esperte vediamo adesso come concretamente l'analisi sia operata quindi qui vi mostro solamente due realtà organizzative che abbiamo indagato dove già le foto e i video cominciano ad essere dei primi risultati che possono essere utili ai progettisti della formazione quando devono utilizzarli a livello formativo e didattico abbiamo guardato tutto il processo dall'organizzazione degli spazi alla comunicazione dell'ordine alla preparazione della pietanza alla porzionatura al confezionamento alla consegna del rider al rider ma nel momento in cui guardiamo la consegna e quindi siamo alla fine del processo vediamo come in funzione delle tre tipologie di servizio che stiamo indagando questo influenza a ritroso e ha un impatto sulla scelta del confezionamento perché le intenzioni del cliente poi la distanza il tragitto ha un impatto sul tipo di confezionamento da mettere ad esempio dentro i contenitori ha un impatto sulla porzionatura ha un impatto sulla scelta del menu perché chiaramente anche se siamo allora sbagliata per parlare di queste cose la scelta di una frittura piuttosto che di un risotto piuttosto che una zuppa all'interno del menu ha poi un impatto su tutto il resto della catena questa fase descrittiva perché siamo una fase descrittiva a livello comincia già a assumere una rilevanza per la progettazione a livello di astrazione successiva cioè ad esempio guardare la complessità del contesto variabili come il dimensionamento l'organizzazione del lavoro e la specializzazione dei compiti ci mostra come queste realtà che abbiamo indagato che sono singolarità cominciano ad assumere un altro significato a livello di astrazione perché si identificano tre configurazioni possibili di attori che si organizzano tra di loro per portare avanti il processo complessivo quando c'è il gestore da solo che quindi ha il ruolo di cuoco confezionatore e coordinatore del riders quando è il gestore e il cuoco o quando c'è il gestore il cuoco e l'imbustatore in questo caso vediamo come l'organizzazione del lavoro si complessifica ma anche si specializzano i compiti e anche si attribuisce un diverso livello di EQF alle figure vado avanti per mostrarvi questa matrice che è un ulteriore risultato intermedio e ci serve per capire alcune cose intanto vedete tutte le variabili delle situazioni affrontate non entriamo nel dettaglio ma ci serve per capire come le variabili che abbiamo visto prima assumono un valore adesso variabili che hanno un impatto sul processo e sui compiti collegati ma che hanno un impatto sul modo in cui la persona mobilizza le sue risorse per organizzare la sua attività e raggiungere il risultato atteso e qui vediamo due organizzatori dell'azione che sono il gusto e l'estetica del piatto come al ristorante così come la corrispondenza tra ordine in arrivo al ristorante e busta giunta a destinazione che già ci fanno individuare quelle che saranno le possibili competenze su cui costruire la descrizione del repertorio in questo caso la descrizione della competenza obiettivo perché a questo punto che vediamo come la dimensione cognitiva del lavoratore si attiva per mobilizzare variabili diverse della situazione al fine di raggiungere i diversi compiti questa slide però ci mostra anche un'altra cosa e cioè che questa matrice che è il risultato intermedio riesce a contribuire alla progettazione formativa perché trasforma le situazioni di lavoro vissute dall'operatore in situazioni di apprendimento situazioni di apprendimento che possono essere organizzate e progettate con una progressione didattica per aumento progressivo della complessità delle variabili considerate nelle situazioni di apprendimento ad esempio le intenzioni del cliente che impattano sull'intero processo e che possono essere la consumazione immediata o non immediata o la creazione del piatto a casa come al ristorante ha un impatto sulla fase di post porzionatura nel momento in cui bisogna costruire dei materiali da allegare alla pietanza e che possono essere in situazioni di bassa complessità le note di consegna piuttosto le semplici note di consegna piuttosto che note di rigenerazione in cui bisogna scrivere come va riscaldato il piatto oppure come va cucinato nell'ultima fase o addirittura alla fine come costruire dei tutorial per la cottura e per l'impiattamento arriviamo all'ultimo risultato che è poi quello che si agganza al repertorio dove la dimensione delle situazioni è ancora presente però chiaramente è arrivata a un livello di granularità molto più come dire molto maggiore molto più generale ecco assume in astrazione ma anche in generalizzazione perché stiamo parlando un territorio molto più ampio e quindi le informazioni sono ancora significative come dire referenzializzate al lavoro concreto agito però chiaramente a un livello più astratto per poter parlare a diverse attività a diversi territori il raccordo viene fatto con le ADA e viene fatto con i risultati attesi e poi a livello di competenze qui ce n'è solamente una della competenza obiettivo che è stata individuata e scelta con con il gruppo di lavoro e che è stata attribuita al SEP servizi turistici ma quello che ci interessa di questa descrizione siamo al punto della descrizione della competenza delle abilità e delle conoscenze è che sono riportati proprio quegli elementi che sono stati considerati nell'analisi significativi quindi tra le abilità l'abilità di preparare le note per il cliente le tre tipologie che abbiamo visto ma tra le conoscenze in questo caso anche soprattutto per quanto riguarda la realizzazione dei tutorial didattici ci vuole anche una conoscenza dei metodi e dei contenuti per arrivare a questo tipo di risultato durante il processo abbiamo ricevuto da parte del gruppo di lavoro che ha partecipato diversi feedback che ci hanno permesso di sperimentare ancora meglio questa metodologia in particolare ne abbiamo riportato uno che è significativo perché mostra che cosa è stato considerato utile dagli operatori della progettazione formativa nel momento in cui devono in commissione indossare i due cappelli quindi lato commissione tecnica e lato progettista della formazione dal lato della commissione commissione tecnica questi questa metodologia è stata considerata utile nel facilitare l'identificazione dei fabbisogni delle competenze emergenti e per indagare quelle competenze e quelle aree di attività poco esplorate e innovative per i progettisti della formazione consente di creare percorsi didattici più aderenti alle reali necessità del mercato del lavoro vado all'ultima slide che è una forma di ricapitolazione di tutte le riflessioni che abbiamo fatto durante questa presentazione sulla sperimentazione che è stata appunto e questo è stato il bello anche collettiva non solamente di Ires intanto di quanto sia necessario nell'analisi dei fabbisogni per l'aggiornamento di un repertorio considerare la pluralità di attori e questo l'ha detto bene Antonella fin dall'inizio attori di un ecosistema formativo che ha diverse esigenze e che del repertorio ne fa diversi usi quindi agenzie regione assistenza tecnica commissioni tecniche e INAP la questione degli usi ci ritorna perché dobbiamo ricostruire e abbiamo ricostruito le diverse finalità e uso dei repertori per individuare il diverso grado di granularità nella descrizione del lavoro necessaria e necessaria per gli usi di ciascun attore e infine questa metodologia ha un po' sperimentato diciamo un modo di integrazione con i diversi metodi di analisi dei fabbisogni che sono stati ben identificati da Marco nella relazione precedente e cioè quelli che hanno per oggetto aspetti socio-economici quindi la dimensione occupazionale gli aspetti socio-organizzativi che hanno che guardano i processi i compiti le mansioni e poi l'analisi del lavoro che è proprio per la prospettiva formativa che assume indaga i saperi mobilizzati nelle situazioni di lavoro per trasformarli in saperi da formare ecco quindi ringrazio ancora Antonella per averci fatto entrare nelle commissioni aver potuto lavorare insieme è stata un'esperienza molto bella e nutriente grazie grazie Chiara e complimenti per il lavoro che è stato che è stato condotto di ricerca era direi importante indagare anche in un modo differente diverso obiettivi particolari che non hanno trovato nessun riferimento nell'Atlante per cui bisognava proprio scrivere su una pagina bianca e il lavoro che è realizzato è stato veramente prezioso perché ha contribuito a vedere in un'ottica diversa la scrittura delle competenze grazie passiamo ora a Sebastiano Spina che ci racconta le esperienze dal punto di vista del tavolo delle commissioni tecniche e quindi un altro punto di vista perché adesso ce la siamo raccontata ci siamo detti quanto abbiamo fatto in questi due anni bene male non lo so adesso vediamo il riscontro che ci dà è qua vicino quindi deve parlare solo bene però vediamo il riscontro adesso seriamente di quello che propongono ecco i tavoli di lavoro prego grazie buongiorno a tutti dopo dottoressa Pacuola tutto il resto è noia è noia no punto di vista è stato lavoro duro ce lo siamo detti avete visto i numeri e parlano parlano da soli ritengo che questo questo lavoro grazie alla giornata delle competenze grazie al caso grazie alla lungimiranza di qualcuno secondo me è capitato nel momento più adeguato nel momento più adeguato perché oggi oggi nel momento in cui ci troviamo il mondo del lavoro faccio andare avanti è acceso no si è già aperto è già aperto ecco qui adesso sono data la va bene le slide vuole essere solo un appoggio abbiamo detto il mondo del lavoro sta cambiando ci sono delle situazioni diverse noi effettivamente in questo momento ci troviamo con qui in regione ma in tutta Italia ad affrontare gol quando uno sente gol in questo momento pensa aiuto qualcuno pensa ad altre cose noi ci troviamo veramente in una situazione in cui non è che senza la revisione del profilo non saremmo andati avanti ma con la revisione del profilo secondo me stiamo avendo stiamo avendo degli aiuti allora la prima cosa che voglio dire è malgrado il lavoro la mia presenza qui e delle colleghe che vedo sia degli enti di formazione sia dell'assistenza tecnica si sopravvive alla revisione del profilo si sopravvive alla revisione del profilo no lo dico perché sembra sembra uno scherzo lo diciamo per stramatizzare ce lo siamo detti con chi abbiamo lavorato però è stata un'operazione non dico titanica però impegnativa perché perché lo è avete visto i numeri e questo ci fermiamo lì allora come ha impattato questo come impatta questo nel nostro lavoro quotidiano cioè alla fine io mi sono detto rispetto alle cose che facciamo tutti i giorni questo lavoro in commissione ha migliorato delle situazioni quelle che ha migliorato sono queste collaborazione intersettoriale dopo le andiamo a vedere velocemente l'aggiornamento continuo e mirato l'inclusività e l'innovazione queste sono delle situazioni che noi viviamo quotidianamente all'interno delle agenzie e che però in questa maniera sono venute sono venute particolarmente particolarmente fuori collaborazione intersettoriale il fatto che ci sia ritrovati tra agenzie formative regione con l'assistenza tecnica i vari partecipanti esperti del mondo del lavoro presenti in commissione o chiamati alla bisogna per cercare di risolvere dei problemi a volte anche le parti sindacali perché in certi profili nascono delle particolarità in cui anche il sindacato magari può dire la sua ha fatto sì che questa collaborazione si elevasse si elevasse ad un alto livello perché è vero che quotidianamente io per il lavoro che faccio Giampiero per il suo contattiamo aziende sentiamo sindacalisti ma in questa maniera come dire il lavoro è stato esclusivamente mirato a far crescere un sistema che può fare solo bene a tutti ovviamente ci sono stati momenti di tensione perché ce lo dobbiamo dire le visioni non sono sempre uguali e benvenga perché solo con visioni completamente diverse a volte si riesce poi a trovare la quadra ci siamo accorti che in quei profili in cui eravamo subito tutti d'accordo siamo ritornati la settimana dopo le settimane dopo ci siamo tornati ma non è che questa cosa l'abbiamo trascurata non è che questa cosa l'abbiamo messa per scontata e li abbiamo riguardati quindi le situazioni in cui i momenti in cui ci sono stati i contrasti sono stati quelli più creativi quelli più formativi quelli più come dire idonei a far sì che questo sistema che secondo me e lo dico l'ho scritto al presente le commissioni facilitano perché ritengo che non si può chiudere qui ma debba andare avanti non solo perché c'è ancora il 10% del lavoro da fare ma perché secondo me è una revisione che deve essere continua e per quei profili che magari non sono stati toccati ma anche molti dei profili che abbiamo già visto probabilmente nel giro di poco avranno necessità di essere riguardati per vari motivi aggiornamento continuo e mirato allora le competenze che ci vengono richieste ultimamente sono sempre come dire più attinenti al mondo del lavoro diceva prima Marco una cosa è poi parlare di competenza è una cosa è dire cosa fa ci siamo sempre abbiamo sempre utilizzato questa domanda una collega in particolare cosa fa questo omino cioè nel momento in cui eravamo lì a decidere le colleghe ridono perché Rosanna eravamo lì che cosa fa questo omino perché siamo partiti da lì il verbo va bene la frasona va bene ma poi fa questo fa quest'altro e da quel punto di vista come dire abbiamo capito che è un un momento in cui l'aggiornamento è come dire fondamentale e l'avere utilizzato l'attrante del lavoro delle qualificazioni ci ha aiutato ora la dico e non me ne vogliono le colleghe che sono a distanza non è che l'abbiamo accettato subito facilmente con piacere andiamo a guardare l'ADA quest'altra cosa copre risultato atteso 1 risultato atteso 2 è stato così lo dico ma sono sincero che mi conosce lo sa è stato così ma a lungo a lungo termine ha dato risultati e li ha dato ancora oggi e mi ha fatto piacere vedere prima quando è stato presentato il portale che queste ADA i risultati finiranno lì sopra perché c'è stato un momento in cui siamo detti ma poi dopo queste cose dove le vediamo dove le facciamo sono contento di aver visto che c'è c'è una parte in cui perché parlandone anche in sede con i colleghi ogni tanto qualcuno anche prima mi ha scritto una collega che mi ha detto la cosa non mi è chiara ne dovremmo parlare e ne parleremo sì ne abbiamo parlato prima in 4 o 5 e ne parleremo diffusamente con i colleghi con i colleghi progettisti ci tengo all'aggiornamento perché io nell'azienda mi occupo di progettazione adesso un po' meno ma in questo momento come dire ricevo tutti i progetti goal che vengono presentati in proposta a Regione Piemonte li valido io quindi bene o male me li leggo me li scupazzo e vedo che i colleghi con molta facilità stanno cominciando a utilizzare anche quegli obiettivi e quelle competenze autoconsistenti sulle quali ci siamo sbattuti autoconsistenti questo termine ce lo siamo portati a casa autoconsistenti mi fa piacere che ne ridiamo adesso per questo si sopravvive perché alla fine quindi l'Atlante ci è servito sembrava un ostacolo ma come tutte le cose nuove ha avuto come dire la necessità di essere metabolizzato e subito dopo lo abbiamo lo stiamo utilizzando anche nella vita quotidiana cioè non ci bastano più solo le schede che abbiamo ogni tanto andiamo a vedere per dei riferimenti soprattutto per quanto riguarda quei casi in cui ci sono le validazioni delle competenze per vedere un po' quali sono i risultati l'inclusività questa è una parola a cui tengo primo perché è l'azienda a cui lavoro è un'azienda molto inclusiva lavoro per il CNOSFAP pur essendo qui a nome di forma e quindi avere ai tavoli le varie rappresentatività territoriali ma anche professionali fa sì che cerchiamo dico cerchiamo perché siamo fallibili di non lasciare indietro nessuno e quindi di dare possibilità a tutto il territorio regionale anche a quello un po' ai confini rispetto alla nostra centralità di dare spazio e per questo come dire il contributo che danno i colleghi che magari non sono direttamente coinvolti in questo tipo di lavoro c'è stato molto d'aiuto e poi per finire l'innovazione secondo me il nostro repertorio è un repertorio fortemente innovativo lo è perché anche guardando l'Atlante nazionale ci siamo accorti che su alcuni profili professionali che stavamo trattando l'Atlante era un po' sfornito così è quindi il nostro secondo me lo è stiamo cercando di abbiamo cercato di introdurre nuove competenze abbiamo cercato di come dire rinnovare quelle esistenti cercando di aggiornarle tenendo conto del green come è stato detto del digitale perché quella è la via che stiamo seguendo e a testimonianza di ciò basta solo guardare quanti corsi di goal in questo momento vanno verso il green e il digitale c'è tantissimi ma non solo perché è una direttiva che deve essere eseguita ma perché ce n'è un bisogno vero c'è un bisogno vero se va avanti ma non è un problema incremento delle risorse non me ne voglia nessuno dobbiamo dire tutto bene tutto a posto però però per il futuro credo non credo che ci sarà un'operazione così massiva come quella che c'è stata adesso almeno speriamo che se come dire se l'operazione avvenisse in tempi più adeguati magari non ci sarebbe bisogno di stringere poi però la fatica che abbiamo fatto secondo me con delle risorse che poi non è solo economia è anche economia perché poi le persone giustamente vanno però direi che bisognerebbe pensare a livello di strutturazione del lavoro a una cosa un po' più tranquilla un po' più soft lo dico molto serenamente perché c'ha allora io voglio faccio ringraziamenti sempre così l'avete già fatti però voglio ringraziare i colleghi che si sono alternati ai tavoli perché è stato fondamentale l'assistenza tecnica secondo me alcuni alcune sante subito sante sante subito sante subito perché se io mi faccio tre commissioni a settimana e c'è qualcuno che se ne fa cinque per due dieci magari se non più secondo me meritano quindi lo dico è così ringrazio gli standard perché hanno dato la possibilità di e se penso al primo intervento a quello del direttore penso al libro blu penso a Teresa che parlava di sperimentazione dell'IVC abbiamo fatto degli esami quando l'IVC lo sapevamo solo noi cosa fosse veniva nella sede in cui ero coordinatore facciamo l'esame a questa persona che arriva dalla Romania solo lavorato abbiamo sistemato se penso a questo penso che come dire la nostra regione abbia fatto dei passi da gigante in avanti passi da gigante verso il futuro verso una situazione come dire che in altre regioni ci invidiano quindi io la chiudo qui però una cosa la dico orgoglio Piemonte direi che si è comportato bene eh bene grazie passo la parola Gianpiero Uslenghi anche lui rappresentante di un'associazione eh di agenzie formative c'è Infop prego eh Gianpiero sì buongiorno a tutti beh intanto ringrazio Sebastiano perché penso che abbia trasmesso in maniera molto efficace no? la fatica di questo lavoro e la anche come dire la profondità no? l'impegno delle agenzie su questo lavoro ora io la buona notizia che penso di essere l'ultimo che interverrà l'ultimo intervento e questo mi mette un po' in difficoltà perché molte cose sono state dette cioè è stato ovviamente un questo evento è stato un evento molto ricco di contenuti quello che quindi mi propongo di fare un po' è riprendere alcuni concetti dal punto di vista di chi eh cioè delle agenzie formative di chi se ne poi se ne appropria per il proprio lavoro quotidiano no? e partirei appunto da una constatazione il lavoro è stato molto faticoso ma chi ce l'ha fatto fare? cioè perché le agenzie formative hanno sentito la necessità di impegnarsi in maniera così no? in questo lavoro e penso che innanzitutto vorrei riprendere un concetto che aveva espresso la dottoressa Cordero cioè questo repertorio forse il termine repertorio svia un po' sa un po' di scaffale un po' polveroso questo è uno strumento per noi operatori uno strumento quotidiano cioè i miei colleghi ogni giorno lo utilizzano per progettare per capire per leggere le competenze delle persone per sviluppare le proprie attività oltretutto qui parliamo di agenzie formative ormai questo è un termine comodo perché storicamente siamo abituati a definirci così ma noi non siamo più solo agenzie formative noi siamo agenzie che erogano servizi integrati di politica attiva del lavoro per cui non solo i nostri formatori utilizzano questo strumento ma gli orientatori le orientatrici i case manager adesso quindi è uno strumento che per noi era importante che fosse uno strumento di immediata usabilità semplice che ci corrispondesse che fosse attuale e che fosse possibile come dire consultare in maniera molto efficace penso che da questo punto di vista insomma abbiamo visto che i progressi fatti sono molto interessanti mi viene pensando all'intervento di Simona Cora quando ha fatto vedere la nuova vetrina sarebbe stato interessante metterla come dire in paragone con la vecchia perché mi è venuto in mente non so se ricordate Spelacchio l'albero di Natale ecco il confronto tra Spelacchio è un albero di Natale cioè qui siamo di fronte a una ricchezza di contenuti anche a una profondità di possibilità che prima non esisteva quindi credo che da questo punto di vista il risultato sia molto buono un repertorio però questo repertorio per noi era importante anche che non fosse come dire non costituisse degli standard omologanti e anche da questo punto di vista penso che ce l'abbiamo fatto in qualche modo cioè abbiamo un riferimento ma un riferimento sufficientemente alto per consentire poi di mantenere nella progettazione di dettaglio in particolare cioè quando andiamo un po' più a dettagliare i nostri servizi le specificità di un territorio che è molto ricco di specificità ha tante vocazioni oltre ad essere uno strumento noi avevamo bisogno anche di una un glossario per parlare per parlare con gli altri noi non siamo uno strumento cioè un un sistema autoconsistente che si esaurisce al suo interno noi siamo costantemente in collaborazione in comunicazione con altri sistemi faccio due esempi quello dell'istruzione il sistema del lavoro ovviamente e noi abbiamo la necessità di poter parlare e di essere capiti con questi sistemi quindi un repertorio che fosse che parlasse un linguaggio pragmatico ma anche che fosse relazionato con altri repertori con altri che potesse essere messo in relazione con altri sistemi per noi è un valore importante l'ultima l'ultimo aspetto su cui avevamo delle delle richieste diciamo importanti e che per noi è molto rilevante è quello dei nostri doveri nei confronti dell'utenza si è parlato già della trasparenza no e del valore delle certificazioni ecco per noi sono due come due elementi essenziali no la trasparenza noi la vediamo non solo come trasparenza appunto della no degli esiti della formazione ma anche come trasparenza della comunicazione di quello che proponiamo all'utenza e sicuramente questo repertorio ci aiuta da questo punto di vista cioè un possibile utente ha la possibilità di andare sulla vetrina che abbiamo detto e lo riprenderò questo concetto è aperta anche ai non addetti al lavoro ha la possibilità di andare e di capire il suo investimento in termini di tempi di impegno eccetera eccetera cosa produrrà in termini di competenza invece quindi di spendibilità sul mercato del lavoro di cose che saprà fare poi sul mercato del lavoro quindi mi pare di poter dire che insomma queste aspettative ovviamente il percorso è stato detto è stato ribadito è un percorso che adesso segna un punto ma non è terminato ed è anche il bello di questa struttura è continuamente aggiornabile ma a questo punto possiamo dire che le aspettative sono soddisfatte vorrei fare anche un paio di considerazione un po' sui risultati e sul metodo certo questo è un progetto l'abbiamo visto insomma stare dietro anche alla descrizione di tutti gli aspetti tecnici non è molto semplice non è stata semplice questa giornata quindi non era un progetto banale e va riconosciuto alla regione dal mio punto di vista il coraggio di intraprendere il percorso che è stato intrapreso una visione prospettica di lungo periodo che credo sia una qualità che sta iniziando un po' a scarseggiare da noi di cui abbiamo molto bisogno e alle persone ai funzionari alle persone che ci hanno lavorato anche la costanza di arrivare il risultato stiamo parlando appunto di un percorso che è durato parecchi anni ho sentito dire che è anche un progetto insomma che ci pone un po' all'avanguardia a livello nazionale questo sicuramente ci fa molto piacere ci rende orgogliosi però se devo dire non ne siamo completamente sorpresi cioè non è una sorpresa il dottor Faggio all'inizio parlava no? metteva questo nostro questo nostro percorso in una prospettiva storia storica beh mi fa piacere ricordare che entrambe le associazioni che sono qui presenti hanno al loro interno delle agenzie che operano da prima dell'unità d'Italia cioè stiamo parlando di una storia di quasi due secoli quindi questo non è esattamente un dettaglio banale questo ci dice che il Piemonte ha una vocazione molto forte in ambito di formazione ha una storia anzi io direi che ha più vocazioni perché poi gli approcci sono anche diversi ha una ricchezza una ricchezza che la regione è stata molto brava a valorizzare creando degli spazi dei luoghi di confronto io poi da persona analogica apprezzo molto quando ci sono questi momenti di confronto anche no? fisico però indubbiamente anche le tecnologie ci hanno dato una mano da questo punto di vista un ringraziamento mi associo ai ringraziamenti dell'assistenza tecnica perché ha fatto un lavoro non banale cioè non si è limitata a quelli che a quella che viene definita deliri di prodotto no? hai questa esigenza ecco la soluzione ma ci ha accompagnato veramente in un percorso con persone attente che avevano voglia di ascoltare anche molto pazienti e quindi le ringrazio molto pazienti quindi diciamo che mi sembra chiaro evidente a tutti che siamo molto lontani da un semplice addempimento burocratico qui c'è molto contenuto c'è molto contenuto e c'è molto del nostro lavoro quello che mi è piaciuto molto degli interventi che ci sono stati è che da subito hanno dato profondità no? profondità e la sensazione che siamo competenti in materia ma anche il senso di una passione qui non stiamo facendo burocrazia secondo me ma stiamo creando veramente un sistema più che altro stiamo valorizzando un sistema tutto bene allora però però mi concederete che vista anche l'ora l'appetito viene mangiando quindi io Simona colgo il tuo spunto su come dire proposte per il futuro perché devo dire allora abbiamo questo strumento adesso non c'è più ma abbiamo questo strumento finalmente molto bello molto performante che descrive un po' il sistema dei nostri standard formativi ora secondo noi sarebbe molto importante che questo sistema fosse completato con l'aggancio all'offerta formativa questo sarebbe veramente il definitivo salto di qualità soprattutto tornando a ricordarci che questo strumento non è uno strumento esclusivamente per gli addetti al lavoro la vetrina è aperta il cittadino ci va finalmente ci naviga anche in maniera semplice trova le informazioni che cerca ma poi dove va a trovare il corso allora io la faccio facile tanto poi ci siete voi che risolvete i problemi no le dal nostro punto di vista le informazioni sono tutte in pancia ai sistemi della regione da un lato abbiamo appunto questi bellissimi standard dall'altro c'è tutto il processo di approvazione erogazione eccetera eccetera il processo delle attività formative è tutto tracciato quindi potrebbe essere la butto lì relativamente semplice no mettere insieme le due cose fare un servizio per sicuramente per i cittadini ma anche per noi allora si parlava tanto una delle famiglie Gerato Goal pensate al giro di mail quotidiane che c'è per chiedere tra agenzie per il lavoro e agenzie formative ma tu cosa eroghi cosa hai in erogazione in questo momento i dati sono tutti in pace al sistema poi se vogliamo lavorare di fantasia persone meglio informate di me mi dicono che altre regioni addirittura geolocalizzano l'offerta formativa quindi tu ma lì possiamo no ma al di là di questo ritengo che questo sarebbe veramente uno strumento orientativo è uno strumento di lavoro che attualmente manca bene sono stato forse nei dieci minuti quindi mi taccio e vi ringrazio grazie Gian Piero anche per questo spunto sappiamo che manca questo tassello vedremo come costruirlo come inserirlo nei lavori in un lavoro forse futuro allora io lascio la parola alla dottoressa Cordiero se vuole chiudere con qualche considerazione non so se anche la dottoressa Pierolo e se avete delle richieste da fare delle domande potete potete farle ora venendo al podio chi è a distanza ricordiamo che può scrivere l'ora è piuttosto tarda e non vorremmo annoiarvi oltre per cui teniamo presente le domande che vorrete porci e nello stessa pagina dove saranno pubblicate anche i documenti sotto forma di FAQ risponderemo alle vostre domande questo per non tediare ulteriormente prego Nadia ma mi risulta che online non ci siano domande io prima di chiudere però mi hanno detto che hanno risolto che è stata risposta non so se qualcuno della sala vuol fare qualche osservazione qualche domanda no abbiamo come dire stesi con queste esposizioni ah una domanda c'è perfetto bene se vuole accomodarsi qui perché si serve ah ok ok dovresti sentirmi allora si è parlato prima intanto bellissima esposizione di tutto quanto io navigo costantemente sull'Atlante del Lavoro sono molto interessato perché rappresento un settore che è un po' bistrattato che è quello della cultura e spettacolo noi ci occupiamo di formazione degli insegnanti di danza e dei danzatori io sono molto orgoglioso che la regione Piemonte abbia dato luce al danzatore pop che è una figura professionale che esiste però non è mai stata riconosciuta prima e la regione Piemonte è arrivata per prima a fare questo quindi io intanto ringrazio veramente ho fatto parte della commissione ringrazio Assunta Tinelli perché mi ha supportato in questo parlavamo del confronto degli EQF sull'Atlante del Lavoro ci sono dei profili che in regione Piemonte hanno un EQF e in altre regioni hanno un EQF magari più alto quindi sono noi 4 e regione 5 in un'altra regione tipo la Toscana 5 che cosa succede nell'ambito di un profilo professionale che ha due cioè praticamente lo stesso profilo però ha due EQF diversi grazie per la domanda allora sì l'ho accennato prima solo con l'ultima rilascio del rapporto EQF le qualificazioni regionali sono state inserite nel rapporto nazionale ma in realtà le regioni sono diversi anni che referenziano l'EQF in via sussidiaria noi dal 2012 con una delibera altre regioni altrettanto magari forse qualcuna addirittura anche prima l'EQF del 2008 e quindi agendo un po' in autonomia è chiaro che oggi ci sono queste piccole disparità ma proprio l'ultimo l'ultima normativa sull'argomento ci ha creato una procedura che dovrà poi essere attivata di referenziazione dell'EQF che in realtà dovrebbe essere un'attribuzione che arriva essendo l'EQF una referenziazione nazionale dovrebbe esserci una procedura nazionale che attribuisce l'EQF alle qualifiche di tutte le regioni quindi questo rapporto che è recente dello scorso anno dovrà poi vedere diciamo un lato operativo che porterà a superare queste differenze quindi ci troveremo poi a rivedere i livelli EQF oggi abbiamo i livelli EQF che ciascuna regione in autonomia attribuito un domani avremo i livelli EQF che effettivamente il punto di osservazione di rilascio EQF del nazionale darà attraverso questa procedura che è stata proprio normata allo scopo e che non è ancora entrata in una fase operativa c'è poi una domanda specifica che mi ha consegnato assunta molto specifica ma insomma rispondo si chiede sul profilo del mediatore immobiliare se resterà quello attuale tutti i profili hanno un'evoluzione questo in particolare è una figura regolamentata c'è stato un accordo per le regioni sullo standard formativo recente che porterà a una evoluzione di questo profilo ci stiamo lavorando col settore commercio quindi il profilo si evolverà credo nell'autunno ecco non è un'attività breve non poteva rientrare in questa attività stiamo parlando appunto di una cosa molto recente e il rilascio del nuovo profilo sarà comunque credo nell'autunno dovrà passare prima anche da una delibera regionale che lo riqualificherà diversamente allineandolo a quello che è lo standard nazionale recentemente approvato ci sono altre domande no che dire è veramente difficile dopo tutta questa carrellata di considerazioni io mi associo a quello che un po' accennava Giampiero Slenghi che è stata una come dire una mattinata molto ricca ognuno di noi ci ha messo passione e ha portato dei punti di vista diversi credo che si sia fatto vedere un lavoro in cui abbiamo creduto in tanti di cui sentivamo la necessità e che insomma ci ha portato anche a lavorare di più insieme a rinsaldare questi legami che sempre ci sono e che sono alla base del nostro sistema legami fatti di dialogo di confronto di apertura di ascolto insomma è stato un lavoro che proprio anche perché condensato ha avuto il suo valore aggiunto concordo che non si possa procedere con questo ritmo e non ce n'è forse neanche questa necessità tant'è che Regione sta proprio valutando come andare avanti l'idea è proprio quella di studiare dei meccanismi di manutenzione continua più efficaci perché come dicevo l'ultimo lavoro di manutenzione così strong è stato fatto nel 2012 dove proprio si è riscritto tutto forse la considerazione di base è proprio nata pensando che io stessa dovessi raccontare cioè dovessi dire cosa cosa faccio oggi pur non avendo cambiato lavoro o ruolo o cosa faceva nel 2012 nel 2012 l'avrei raccontato con certe parole oggi lo racconterei con altre parole il bisogno di attualizzare le parole che raccontano le nostre competenze per noi è forte perché sentiamo questa responsabilità di uno strumento così così importante e quindi speriamo di aver contribuito a raggiungere questo obiettivo che però appunto deve essere un obiettivo costante per cui l'intento è proprio quello di studiare dei meccanismi più sostenibili che consentano una manutenzione straordinaria diciamocela così con la stessa metodologia ma un po' per volta che ci consenta però di stare al passo con le evoluzioni del mercato del lavoro con la stessa qualità di approfondimento che abbiamo fatto finora ringrazio anche per lo spunto sulle possibilità di rendere più trasparenti l'offerta formativa questa è una richiesta che è venuta fin da subito da quando abbiamo parlato di questo lavoro effettivamente noi avevamo questa banca dati della formazione che era un po' il riferimento per presentare la nostra offerta ma oggi abbiamo proprio cambiato il modo di offrire la formazione una formazione molto più on demand sulla richiesta è più complesso rendere questa trasparenza ma siamo i primi ad averne bisogno perché ci rendiamo conto che il nostro sistema informatico per quanto complesso è comunque adatto alle informazioni per restituirci questa fotografia ma non è così immediata la costruzione quindi sicuramente anche questo è uno spunto che ci portiamo a casa diciamo che giriamo il coltello nella piaga perché io e Enrica ne abbiamo parlato tante volte ci sarebbe piaciuto già disporre di questo strumento già due o tre anni fa anche con Lucia che è qui presente insomma è veramente qualcosa di cui sentiremo oggi più che mai il bisogno speriamo di riuscire a realizzarlo in un futuro non troppo prossimo ecco io ringrazio tutti per la pazienza non aggiungo altro e l'uno insomma mi spiace che non possiamo salutarci almeno con un light lunch ma insomma le nostre possibilità oggi erano queste vi ringrazio comunque della pazienza dell'ascolto dell'attenzione che ho registrato e saluto tutti per questa piacevole mattinata passata insieme grazie a tutti Grazie a tutti